questo programma è offerto da costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione monoblocchi per zona cottura lavello frigoritero o congelatore lavastoviglie da 45 centimetri con trasporto e montaggio finalmente qui li scegliete voi facciamo i conti porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso fba di bruno corso potenza 183 angolo di elucento torino ladies and gentlemen wrestling is real it says pro wrestling on the marquee it does not say a midget a beating off in the trash domenica 29 maggio 2022 un saluto da parte di eric alzerri benvenute in una nuova puntata di wrestling caffè usciamo eccezionalmente di domenica perché nella notte tra oggi e domani c'è il secondo preview aw dell'anno che è aw double or nothing ne parleremo poi più avanti durante la trasmissione però prima come sempre il solito il solito sguardo alla settimana in wwe e non solo perché comunque di cose ne sono accadute saluto mattia di noi che è collegato in questo momento buonasera mattia le news e sì ce ne sono di news ce ne sono da da un po' tutto il mondo da un po' tutto il mondo perché spazieremo da diciamo dalla wwe al giappone perché comunque ci sono movimenti interessanti c'è il best super junior con francesco chira di cui parleremo tra tra un po' e poi c'è la questione kota ibushi che ha avuto un'altra un'altra interessante pagina nella giornata nella giornata di di venerdì una pagina diciamo cominciamo da quello e ha avuto una pagina una pagina a due facce mi sento di mi sento di dire perché c'è stata la la conferenza stampa convocata da dal proprietario della della bushi rod e da obari sani il presidente della 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 new japan per parlare appunto della questione diciamo che la new japan ha tentato un pochettino di buttare acqua sul fuoco relativamente a questa a questa faccenda si sono scusati tra l'altro i in perfetto stile perfetto stile giapponese i diciamo il proprietario della bushi rod di cui adesso non ricordo il nome e il presidente della new japan obari dicendo che comunque effettivamente sono andati sono andati a pranzo due volte mi ha fatto molto ridere il il fatto che anche anche i bushi e infatti infatti per quello dico due facce ne parliamo poi ne parliamo poi dopo dicevo è stata mi ha fatto anche abbastanza ridere un pochettino la il riassunto del comunicato stile perché ha il obari ha raccontato di quando è andato in palestra a fare esercizi con i bushi una cosa abbastanza 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 strana da dire però però diciamo il succo della della faccenda che comunque questa questa situazione va avanti da un paio di mesi più anzi poco poco meno di un paio di mesi perché comunque è nato tutto nel mese di marzo quando i bushi ha partecipato a uno show a uno show di takamichi no questo ricordo bene senza autorizzazione praticamente perché lui è sotto contratto esclusivo con la new japan e ogni apparizione che i wrestler della della new japan fanno al di fuori della compagnia deve essere concordata la new japan non mi sembra particolarmente diciamo particolarmente come posso dire restia o comunque particolarmente particolarmente problematica da quel punto di vista chiaro probabilmente se ti chiedono se tu chiedi di andare a fare uno show in noa non ti lasciano andare probabilmente o in all japan però per le altre compagnie quelle piccoline anche soprattutto non è raro effettivamente vedere i wrestler della new japan però comunque deve essere autorizzata specialmente nel caso specialmente nel caso dei wrestler di punta anche perché comunque in caso di match ovviamente ci devono essere certe protezioni dal punto di vista dal punto di vista politico tra l'altro in questo caso i bushi da come l'ho capita non ha neanche lottato cioè era tipo era tipo un secondo comunque era tipo giusto un'apparizione praticamente o sbaglio sì 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 non ho ben capito che cosa ha fatto in quel in quello show effettivamente vai vai a capire ma in realtà tutta sta storia è veramente è stranissima sta storia molto strana stranissima perché comunque praticamente la polemica è nata lì praticamente e c'è stato stando cioè il presidente della new japan è stato informato di questa cosa ed è stato poi informato praticamente dei messaggi che ci sono intercorsi tramite tra i bushi e kikuchi che è tipo il diciamo il john lorinitis della new japan praticamente in questo momento cioè il responsabile delle redazioni coi talent kikuchi che tra l'altro è quello che è stato buttato sotto un autobus non nel senso letterale del termine ma è stato buttato sotto un autobus praticamente cioè è il capo espiatore di questa faccenda praticamente perché comunque durante durante la conferenza stampa obari e la proprietaria della bushi rod hanno fatto capire che comunque l'atteggiamento di kikuchi non è comunque accettabile a prescindere dalla situazione che si è venuta a creare con kikuchi e sarà punito praticamente kikuchi come sarà anche punito i bushi però la sensazione da come anche l'hanno detta è che per il momento al massimo si parla di una breve di una riduzione di stipendio per quanto riguarda per quanto riguarda lui è una reprimenda per non cioè non c'è mai stata l'intenzione da parte del japan di licenziare kikuchi anche perché sanno benissimo che comunque è un asset per la per la per la città doveva accadere veramente qualcosa di veramente drastico praticamente per arrivare a una decisione di questo tipo perché comunque sanno che un i bushi ha comunque diciamo si porta dietro un seguito importante e aiuterebbe qualunque compagnia dove lui eventualmente andrebbe a lavorare comunque questo è quanto per quanto riguarda la conferenza stampa cioè comunque la conferenza stampa è stato un tentativo da parte della new japan di buttare acqua sul fuoco praticamente sulla faccenda hanno anche citato la questione di cui avevamo accennato mi sembra martedì durante durante il resti di caffè by night del fatto che i bushi ha sostanzialmente accusato la new japan o comunque le persone con cui ha avuto a che fare in modo abbastanza combattivo negli ultimi tempi di essere responsabili di un tentativo di suicidio da parte della madre che è un argomento molto molto spinoso perché a prima vista una cosa del genere sembra effettivamente molto esagerata però effettivamente per la cultura giapponese non è così scontata effettivamente questa cosa per noi occidentali sembra un'accusa oggettivamente molto esagerata però dobbiamo anche entrare praticamente nella testa di bushi innanzitutto e anche della sua famiglia o comunque nel mondo della cultura giapponese che da quel punto di vista è molto diverso rispetto a noi il discorso è che soprattutto quando vieni da una famiglia povera i genitori danno tutto per la tua carriera cioè se c'è un video dove fanno vedere la madre di bushi la madre di bushi in casa c'è le camere dedicate al figlio alla carriera del figlio con tanto di altarini il fatto è che comunque questa donna qua ha dato la vita per la carriera del figlio e vedere il figlio che pratica e quando il figlio gli ha detto guarda io sto per fare questa cosa qua mi gioco la carriera probabilmente non starò più in new japan questa qui ha svaccato di testa e ha tentato il suicidio perché comunque è precisiamo se l'è cavata tra virgolette con una rottura di un'anca che comunque non è bello però diciamo che sta bene oggi ne parlavamo con Antonio in Giappone si suicida a volte si suicidano perché vengono bocciati purtroppo succede anche da noi questa cosa il tasso dei suicidi in Giappone è molto alto purtroppo è molto alto hanno questa mentalità del buscido e tutte queste cose qua che noi ovviamente non percepiamo però in Giappone sono cose molto importanti ai tempi di Logan Paul si era parlato della famosa foresta dei suicidi che comunque era questo posto dove purtroppo molte persone vanno per concludere in modo traumatico la propria esistenza se ne era parlato perché Logan Paul e Jake Paul non è qualche dei due forse Logan aveva fatto questo video dove praticamente loro ridevano un pochettino di questa cosa in questo posto si vedeva tra l'altro anche purtroppo una persona impiccata praticamente a questo albero in questo posto appunto in Giappone è una cosa per cui c'erano state grosse polemiche giustamente anche perché comunque è veramente una cosa molto poco sensibile quindi per me è una cosa è abbastanza noto dicevo quindi per me e anche presumo per molti sembra un'accusa molto esagerata però dobbiamo entrare nel mondo comunque giapponese e nella cultura giapponese più che altro perché è una cosa molto lontana che è fatta così è un po' come quando è un po' come quando la gente si stupiva quando morì l'anno scorso Kentaro Miura per il troppo lavoro la gente diceva eh ma questi lavorano troppo ok è vero però è un ambito lavorativo completamente diverso è una cosa asiatica è una cosa proprio di quella zona lì perché comunque non è una cosa solo giapponese è una cosa anche coreana se vogliamo è una cosa anche chiaro mondi diversi politiche diverse diciamo regimi anche diversi però capita molto spesso anche anche in anche in Cina non parliamo della Corea del Nord però però per esempio in Giappone e Corea che sono comunque le due le due democrazie democrazie no perché comunque c'è c'è l'imperatore in Giappone però comunque i mondi più vicini a quelli occidentali per quanto riguarda per quanto riguarda diciamo la zona asiatica comunque succedono succedono queste queste cose in modo molto più alto rispetto rispetto ad altri paesi ed è un problema un problema assolutamente molto grave che si spera verrà risolto difficilmente verrà risolto in tempi brevi perché ripeto purtroppo è una cosa molto legata alla loro cultura e ci va un cambiamento culturale molto importante affinché le cose cambino da quel punto di vista però si spera comunque che succeda sempre una cosa di questo tipo perché comunque il benessere mentale è comunque un argomento che comunque sta diventando fortunatamente sempre più importante in giro per il mondo e speriamo che continui ovviamente sì il discorso lì è un po' più sulla cultura i giapponesi hanno la testa quadrata quindi lì la vedo difficile però quella è Minecraft ti confondi no scherzo è una battuta no dicevo tornando a noi tornando alla questione tornando alla questione di diciamo di Ibushi Ibushi non ha preso benissimo diciamo questa conferenza stampa non tanto la conferenza stampa che poi comunque se non ci fosse cioè se la situazione fosse così irrecuperabile presumo che Ibushi non ci sarebbe nato a pranzo due volte con diciamo con Obari e con il proprietario della Bush come effettivamente è avvenuto alla fine l'unica cosa non gli è particolarmente piaciuto che nella conferenza stampa non dico se sia glissato perché non si è glissato ma che non siano stati menzionati i dettagli della storia relativa a sua madre presumo anche per sensibilità a un certo punto cioè non penso che non penso che fosse veramente necessario menzionare tutta la questione il fatto che il fatto che sua madre cioè i dettagli più cruenti mettiamola così relativamente relativamente a suicidio e vari scambi però pare che Ibushi non abbia apprezzato vedremo come evolverà la situazione non l'ha mandato dire tra l'altro su Twitter nei tweet che tu che tu menzionavi poco fa tra l'altro giusto? no no esatto Ibushi è un peperino è un personaggio molto strano cioè è un personaggio che gli inglesi dicono che marcia marcia al suo battito praticamente cioè marcia al suo suono di tamburi praticamente cioè ha un rimuo tutto suo e in un mondo e in un mondo un pochettino tutto suo nel bene e nel male ma ce ne siamo accorti anche quando anche quando lottava cioè non è raro non è assolutamente raro per Ibushi passare da un match iper tecnico con con Ken Omega o comunque con altri con altri resti era fare dei deathmatch in DDT dove si sparava letteralmente dei fuochi d'artificio addosso in un match combattuto per strada anche tra l'altro quindi è una persona storicamente abbastanza abbastanza bizzarra e quindi non sai mai non sai mai diciamo quello che hai in mente cioè non voglio fare paragoni di Brian Pillman perché comunque Brian Pillman era una gimmick ed era un altro discorso il Luscano però in questo caso abbiamo veramente una persona che veramente può farti tutto cioè può fare veramente di tutto e può agire può dire anche tra l'altro di tutto cosa che per una compagnia può essere effettivamente un problema è un peccato perché comunque perché comunque avendo trovato negli ultimi anni l'equilibrio dal punto di vista contrattuale cioè essendosi voluto finalmente legare legare alla New Japan e se avendo voluto la New Japan legarsi a lui dal punto di vista dal punto di vista contrattuale soddisfazioni mi sento di dire che sarei tolto esistivamente il bus in ultimi anni perché è stato finalmente campione nel mondo è stato vincitore del G1 Climax poi peccato l'ultimo G1 Climax purtroppo in finale in finale gli ha causato l'infortunio che tra l'altro si porterà ancora adesso perché comunque la finale del G1 Climax quando è stata? Settembre e ottobre lo scorso anno non mi ricordo fosse ottobre 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 siamo a maggio evidentemente l'infortunio che ha avuto per carità ce ne eravamo accorti subito che effettivamente l'infortunio non era di poco conto perché se no il match sarebbe andato avanti però siamo a maggio sono passati sette mesi e siamo ancora fermi praticamente tra l'altro nella conferenza stampa hanno detto che l'hanno visto allenarsi e lui ha detto i movimenti della mia spalla non sono ancora a livello che vorrei quindi comunque il suo ritorno non è vicino pare sul ring anche se lui in alcuni tweet sosteneva di essere che era pronto e loro non lo richiamavano è una roba è molto strana poi chiaro è anche la loro versione di fatti probabilmente la versione di Bush la versione di New Japan probabilmente la verità come tutte le cose stanno in mezzo quindi è una situazione molto strana lo ripetiamo per l'ennesima volta che può finire in ogni modo la sensazione da parte basandosi sulla conferenza stampa che comunque la New Japan ci tenga tantissimo ai Bushi e che voglia comunque cercare di recuperare la situazione in ogni modo vedremo se sarà poi effettivamente così vedremo se sarà vedremo se sarà effettivamente una storia a lieto fine o comunque anche se loro hanno detto in conferenza stampa hanno detto che comunque sanno benissimo che diciamo la loro sensazione è che comunque gran parte delle cose dei problemi che ci sono stati tra due parti li considerano comunque risolti sanno anche benissimo che comunque certe cose probabilmente ci vorrà tempo per diciamo per riconquistare la piena fiducia da ambo le parti cioè comunque è un discorso assolutamente assolutamente come posso dire non mi viene il termine bidirezionale cioè comunque ovviamente la New Japan non è piaciuto che lui comunque sia andato senza autorizzazione a fare uno show contemporaneamente Ibushi ha reagito male per diciamo per altri per altri per altri motivi e diciamo sanno benissimo che comunque i rapporti tra le due parti almeno per il momento al 100% non potrà tornare perché comunque ci sono delle cose che necessiteranno di un po' di tempo praticamente per diciamo per andare per andare a posto però loro loro diciamo cosa posso dire loro comunque vogliono recuperare i Bush vogliono o vogliono tentare quantomeno di recuperare i Bush dal punto di vista contrattuale dal punto di vista dal punto di vista anche umano perché comunque anche solo per un ragionamento cinico per motivi economici perché comunque ripeto quello che ho detto all'inizio Ibushi è comunque uno che porta tanto per tutte le compagnie è un asset assolutamente molto 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 importante per ogni compagnia dove dove lui lotta in Giappone quindi vedremo vedremo cosa accadrà e vedremo cosa e vedremo come evolverà questa situazione non penso che evolverà in tempi brevissimi proprio perché come detto pare che Ibushi non sia ancora al 100% dal punto di vista dal punto di vista del lottato vedremo come diciamo come evolverà la situazione nelle prossime settimane e magari nei prossimi mesi vediamo se ci saranno altri sviluppi interessanti e intriganti diciamo da parte da parte della New Japan e da parte ovviamente di Kota Ibushi passando ad altro cioè passando ad altro argomento l'altra notizia un po' grossa della settimana è la notizia che Man in the Bank non sarà più all'Allegion Stadium di Las Vegas sarà invece all'MGM Grand Arena che è la seconda arena per grandezza praticamente di Las Vegas dopo che è stata aperta la T-Mobile Arena qualche anno fa che è la casa della UFC ed è l'arena più grande dove per esempio questo weekend c'è i W Double or Nothing che è il secondo per l'anno per le AW ne parlavamo un po' di tempo fa parlavamo della strategia della New Japan della WWE di andare così tanto negli stadi col senno di poi probabilmente l'aver messo Man in the Bank a luglio e poi subito subito dopo a fine mese direttamente Summerslam a Nashville è stato un errore che non ha pagato perché probabilmente chi voleva viaggiare praticamente per andare a vedere per andare a vedere una scena di wrestling molto probabilmente si è scelto Summerslam è vero che Summerslam dal punto di vista dei biglietti non è che stia andando tanto meglio rispetto a Man in the Bank perché l'ultimo numero di Man in the Bank stando a WrestleTix era intorno ai 17 18 mila biglietti venduti Summerslam in questo momento è intorno ai 23 mila quindi non stiamo parlando di un numero così tanto più grosso da parte da parte di Summerslam rispetto a Man in the Bank evidentemente da parte della WWE non c'è stata grande fiducia per quanto riguarda questa card o questa card o questo evento più che altro per rendere visivamente comunque accettabile la diciamo il prodotto dal punto di vista televisivo evidentemente si hanno detto ok più di tanto qua non riusciamo a ottenere ma bene che ci vada magari arriviamo 20, 25 26 mila spettatori lo stadio da 70 mila probabilmente non ce la facciamo a renderlo a renderlo comunque cioè a non far vedere dei posti vuoti praticamente all'interno all'interno dello stadio hanno detto vabbè tagliamo le nostre perte diciamo buchiamo l'MGM Grand Arena andiamo lì meglio un'arena piena che uno stadio pieno per un terzo praticamente anche dal punto di vista della resa audio e ci pensiamo la prossima volta praticamente a un evento a un evento dello stadio magari un evento un pochettino più importante di Man in the Bank che è strano dirlo perché comunque Man in the Bank negli ultimi anni comunque era un po' considerato il quinto Big Five della compagnia vero è che gli ultimi incassi di Man in the Bank non è che abbiano fatto gridare al miracolo dal punto di vista diciamo dal punto di vista delle storie dal punto di vista della qualità però diciamo che comunque una certa aura ancora in Man in the Bank si pensava che lo avesse un po' per una serie di circostanze evidentemente non è stato così per quanto riguarda diciamo per quanto riguarda lo show di quest'anno si probabilmente è quello non c'è molto altro da aggiungere oggettivamente è una situazione che comunque è strana perché comunque era uno show sul cui loro era palese che puntassero veramente tanto eh si ricordiamo che l'hanno annunciato lo scorso anno a SummerSlam quindi comunque con lo spot che l'annuncio ed era comunque una novità c'è comunque il fatto che portassero Man in the Bank in uno stadio effettivamente esatto poi ci sono diciamo ci sono cioè ci sono stati non voglio dire una serie di errori perché è facile dirlo adesso ovviamente che ci sono stati una serie una serie di errori probabilmente fare fare l'evento la stessa settimana dove solitamente per i più importanti danni dell'UFC probabilmente non è stata una grandissima idea effettivamente però vabbè è comunque sarebbe stato al massimo un tentativo della WWE di sfruttare la cosa proprio a vantaggio cioè comunque c'è quell'evento lì c'è quell'evento lì cerchiamo praticamente di saltare in groppa praticamente a questo evento e portare un pochettino di gente magari a vederlo magari a vedere anche a limite l'errore potrebbe essere stato in quel caso non spostare lo show la domenica che sarebbe diciamo magari stato anche più un pochettino buona idea sabato sera per i più BFC domenica sera chiudi il weekend praticamente con lo show da B nello stadio magari andava meglio il fatto di aver annunciato lo show in concomitanza il sabato sera magari non ha aiutato però non ho la controprova di questa cosa è probabile ma non ho la controprova di questa cosa la cosa interessante è relativamente a Man in the Bank a questo punto e chi ci sarà in questo evento perché il poster nuovo che è stato pubblicato dalla WWE con tutto il rispetto non ha tantissimi nomi di punta quantomeno rapportato a quello che si pensava in origine praticamente per questo show il poster originale il primo aveva Ronda Rousey aveva Brock Lesnar aveva Roman Reigns aveva mi sembra Charlotte anche e nel poster nuovo non c'è nessuno di questi qua hanno aggiunto gli Street Profits che con tutto il rispetto non mi sento di dire che sono dei nomi dei nomi di punta il nome più di punta credo che siano Cody Cody e vabbè Drew McIntyre che è quello che fa il leg drop in alto che si intravede in alto sinistra anche se in realtà non è tanto grosso rapportato agli altri diciamo nel poster però sì il nome di punta in questo momento è Cody sicuramente in quel poster quindi chissà cosa ci sarà in questo evento alla fin fine Roman Reigns pare non ci sarà a Man in the Bank che è strano che è strano perché in origine vedremo se sarà effettivamente così innanzitutto in origine si pensava che a Man in the Bank ci potesse essere la difesa titolata di Roman Reigns contro Matt Riddle il piano per l'estate pare fosse Man in the Bank Riddle Summersam con Randy Orton e poi in Galles per Clash of the Castle l'inizio settembre Drew McIntyre vedremo se adesso sarà effettivamente effettivamente così parlando tra l'altro di ritorni pare che mi sembra che abbiano annunciato Charlotte o comunque abbiano aggiunto Charlotte nella pubblicità di Smackdown del 15 luglio a Orlando quindi dovrebbe tornare intorno a quel periodo diciamo vedremo se sarà vedremo se c'è chi era vendetta con Ronda Rousey che è possibile tra l'altro pensandoci che tu pensa che Summerslam pensa a Summerslam con praticamente Charlotte contro Ronda Rousey di nuovo probabilmente dovessi dire e dall'altra parte Becky contro Bianca Belair per un'ultima volta cioè praticamente i match di i match di Wrestlemania Backlash praticamente no i match di Wrestlemania altro che di Wrestlemania Backlash i match di Wrestlemania praticamente alla fin fine si 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 boh vediamo che cazzo si inventano si più che altro perché comunque cioè più che altro per riempire uno stadio a questo punto ci va della grande attrattiva però a questo punto quali potrebbero essere effettivamente le grandi attrattive che portino la gente all'interno di uno stadio o quantomeno che diano un colpo d'occhio abbastanza abbastanza accettabile a meno che non vai di nuovo a prendere i vari Logan Paul i vari cioè comunque i vari VIP da inserire di nuovo nelle storyline perché non so quanto rifare praticamente i match di Wrestlemania Randy Orton contro Roman Reigns potrebbe anche essere effettivamente non è un match nuovo perché comunque non è un match nuovo però diciamo che come attrattiva principale potrebbe effettivamente anche funzionare però anche lì bisogna vedere qual è l'aspettativa da parte della compagnia non mi pare sia un main event da riempire uno stadio praticamente con tutto rispetto naturalmente per Roman Reigns per Roman Reigns e Randy Orton naturalmente eh sì boh la situazione è molto strana dobbiamo dobbiamo aspettare e vedere che cosa viene fuori anche perché cioè comunque c'è poco c'è poco da dire aggiungere o così via è una situazione che comunque è in è in divenire e bisogna capire adesso cosa fanno se cioè magari contando che comunque il loro piano era fare Riddle contro contro Coso contro 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 Roman Reigns contro Roman Reigns magari lo fanno lo stesso alla fine magari magari visto che magari se quel match lì non c'è il piano per Samuelson a questo punto magari diventa un triple fret cioè Roman Reigns contro Riddle e Randy Orton contro gli Archebrow sì uno contro uno contro uno contro uno che non è un bruttissimo match strato anche sulla carta dal punto di vista dell'ottato potenzialmente potenzialmente puoi anche giocarti comunque gli Archebrow e quello forse può essere considerato comunque effettivamente un po' più grosso di solo Orton contro sì anche lì però è roba da riempirti gli stadi probabilmente no dovessi dire ma però effettivamente se andiamo a vedere in questo momento nel roster roba veramente riempi i stadi ce n'è veramente molto poca ce n'è veramente molto poca probabilmente il loro ragionamento di far diventare Roman quello che vogliono farlo diventare adesso è proprio questo è che vogliono iniziare a fare più show negli stadi e quindi vogliono cercare di rendere Roman un'attrattiva da stadio però diciamo il primo tentativo se il primo tentativo non è riuscito esatto se devi andare da uno stadio in un'arena effettivamente non è che sei andato proprio benissimo purtroppo per loro raggiungerei alla fine il discorso che facevamo la settimana scorsa è quello di trovare la quadra cioè comunque trovare il numero giusto praticamente di eventi di eventi in uno stadio due eventi di fila probabilmente è stato un errore perché comunque penso che quest'anno sia come si dice sia sia l'anno di rodaggio per questa cosa qua e poi dagli anni prossimi probabilmente avremo una quadratura un po' più una quadratura del cerchio sotto questo aspetto diciamo che puoi potrei dirti a parte vabbè l'Arabia Saudita e magari uno vabbè l'Arabia Saudita non serve è a parte è a parte e a parte permettendo anche che tra l'altro l'ultimo show non era neanche in uno stadio se andiamo a vedere era in un doma al coperto da 15-20 mila post mi sembra quindi è già un discorso un pochettino diverso però per dire negli Stati Uniti puoi fare la Royal Rumble puoi fare ovviamente la WrestleMania che sono due serate Summer Slam e direi anche basta tutto sommato tre sono a distanza di tre mesi l'uno dall'altro direi che basta non avanzano sì sì a meno che se veramente non vuoi fare Money in the Bank nello stadio però devi cambiare completamente posizione certo ovvio lo devi mettere in inverno però in inverno gli stadi la maggior parte sono a parte il baseball che comunque sono gran parte stadi all'aperto quindi è un po' un problema da quel punto da quel punto di vista gli altri stadi sono impegnati per il football americano e lì è un pochettino più difficile però più che altro d'inverno d'inverno sì metti Money in the Bank però d'inverno hai poco tempo per costruire perché poi c'è la Royal Rumble poi hai l'Emination Chamber o quello che è praticamente a febbraio e poi il WrestleMania praticamente se vuoi fare a ottobre-novembre sì per dire era giusto per fare un pull par lady dove puoi mettere se vuoi fare nello stadio però effettivamente non c'è tanto spazio cioè è una è una situazione ripeto devono trovare la quadra devono trovare la quadra tra l'altro è un discorso quello che cioè quello che questo discorso qua è chiaramente un'idea di Nick Khan cioè comunque è comunque un'idea un'idea sua e dobbiamo poi comunque inquadrare anche questo tipo di idea con la situazione che comunque è la situazione che c'è internamente in questo momento in David David perché è una situazione molto particolare quella diciamo ci sono grandi movimenti di Trove Quinte in questo momento nella compagnia Stefani che parte se ne va e non si sa se ritornerà alla fine tant'è che hanno già hanno già fatto praticamente l'annuncio di lavoro per trovare i vari sostituti della figura di Stefani Memeo cosa che mi fa pensare che comunque i tempi brevi questa non si fa vedere all'interno all'interno della compagnia per esempio un'altra 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 manovra interessante Jeff Jarrett che è tornato in David David in una posizione di potere a cos'era non savi degli out show mi sembra no? Sì praticamente che è una cosa mi sembra che sia un'ulteriore testimonianza del fatto che in questo momento la corrente non voglio dire di Bruce Prichard però comunque di quella zona lì probabilmente sta avendola meglio perché non sono convinto che Triple H se fosse stato praticamente in una posizione di controllo il primo nome che avrebbe scelto sarebbe stato quello di Jeff Jarrett per una posizione di questo tipo però l'abbiamo già parato Triple H comunque in questo momento non sta viaggiando infatti vi dico l'ulteriore testimonianza del fatto che comunque Triple H in questo momento all'interno della compagnia ha comunque perso molto potere e la sua influenza è molto minore rispetto al passato al di là dei problemi fisici comunque che ha avuto Triple H che comunque sono sicuramente importanti e sicuramente influiscono ovviamente in questo tipo di situazione però c'è anche la situazione politica che comunque dobbiamo considerare che comunque è molto interessante ho letto online in questi giorni permettendo che devo ancora vedere la serie molti paragoni tra la situazione della WWE e Succession come serie non l'ho mai vista io Succession non so se tu hai visto per caso no non l'ho mai vista comunque sì è un po' la situazione caprotti cioè Succession è una serie di praticamente un capofamiglia che è intenzionato a cedere a cedere praticamente la diciamo l'industria di famiglie ai propri figli e poi torna in gioco perché si accorge che comunque i figli non riescono a portarla avanti ci sono pugnalate alle spalle non nel senso letterale ma è comunque pare sia una serie molto bella di serie di HBO mi sembra tra l'altro Succession quindi devo vederla devo metterci le mani credo che vada in onda in Italia su Sky se non ricordo male ovviamente avendo Sky i diritti di gran parte della roba di HBO effettivamente non mi sorprende ha proprio la partnership con HBO sì sì infatti è quello che impedisce l'arrivo di HBO Max in Italia purtroppo però vedremo vedremo in futuro come evolve la situazione anche da lì comunque aperta e chiusa parentesi cioè comunque c'è questa situazione politica interessante perché comunque hai Stephanie McMahon che prendeva via che comunque è una cosa abbastanza strana è vero l'ultimo anno di Stephanie con la questione del marito sicuramente non è stato facile però che lei vada via dopo cos'è 25 anni praticamente diciamo di permanenza all'interno della compagnia anche solo per rompere l'aspettativa è comunque una notizia Triple H sappiamo che comunque in questo momento sostanzialmente è in un ufficio non sappiamo cosa fa ma non pare non faccia moltissimo per ovviamente i premi di salute e comunque in particolare la sua influenza è molto molto diminuita Shane non è più in compagnia da ormai molto molto tempo di McMahon alla fin fine è la volta che è tornato è l'ultima volta che è tornato è stato cacciato al 5-1 ha fatto casino esatto cioè di fatto l'ultimo McMahon rimasto è Vince lo dicevamo la settimana scorsa è una situazione bizzarra è una situazione inaspettata quantomeno per quanto riguarda il dietro le quinte della WWE ed è una cosa che secondo me avrà ancora sviluppi in tempi medio-lunghi adesso non sappiamo non sappiamo non sappiamo quali però è una situazione che comunque va seguita e va comunque va comunque monitorata perché comunque ci sono soprattutto in ottica rinnovo diritti televisivi grandi manovre grandi manovre dietro le quinte che possono possono secondo me dare sorprese abbastanza abbastanza importanti magari non inaspettatissime ma comunque qualche sorpresa penso che comunque ci sia dietro le quinte relativamente relativamente i prossimi sviluppi da parte della WWE comunque per quanto riguarda i pay-per-view come detto Man in the Bank sarà all'MGM Grand Arena tutti i biglietti acquistati per lo stadio sono stati annullati sono stati rimborsati e chi ha acquistato l'evento chi ha acquistato il biglietto per andare allo stadio avrà la predazione sul diciamo sul riacquisto del biglietto per quanto riguarda l'evento all'interno dell'arena il setup per quanto riguarda l'MGM Grand dovrebbe essere intorno agli 11-12 mila posti da stima fatta da WrestleTix vedremo se sarà effettivamente effettivamente così quando poi uscirà la mappa praticamente dell'evento diciamo che è probabile che comunque alla fin fine dell'evento vada bene dal punto di vista dal punto di vista diciamo dal punto di vista perché comunque a Chicago hanno fatto sold out Chicago è andato bene sì non è proprio sold out nel senso letteralissimo nel termine perché comunque ci sono ancora c'è ancora tipo 100-200 posti a visibilità limitata però sì di fatto è praticamente come sold out hanno fatto benissimo ad annunciarlo perché comunque alla fin fine quello è ed è interessante perché comunque la carta di Mattia Lina Sell francamente sulla carta non è che mi sembra eccezionale fino a questo fino a questo momento Roma Rains non dovrebbe esserci i titoli di coppia non saranno difesi in questo momento l'unico match titolato annunciato credo che sia quello credo che sia quello per il titolo femminile di Raw o sbaglio sì 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 quindi quindi vedremo cosa vedremo cosa vedremo come evolverà la carta di Lina Sell però non mi pare francamente a livello di star power tanto diversa rispetto al WrestleMania Backlash quindi non un grandissimo evento sulla carta un evento che sulla carta potrebbe anche essere abbastanza skippabile poi magari un evento divertente è comunque positivo che nel diciamo nella città di Chicago comunque l'evento si è andato si è andato bene dal punto di vista delle vendite dei biglietti e questo è quanto per quanto riguarda la dover Chicago è comunque una piazza dove alla fine è una piazza sempre calda per il wrestling assolutamente lo dimostra l'AiW che comunque lì a Chicago sta andando molto molto bene e non solo perché comunque anche questo weekend a Las Vegas stanno andando molto molto bene passando invece ad altro passando al Best Super Junior 29 andiamo in Giappone per vedere come sta andando il torneo il torneo dei Super Junior praticamente l'edizione numero 29 purtroppo non benissimo il torneo fino a questo momento numeri alla mano ovviamente per quanto riguarda per quanto riguarda Francesco Chira perché fino a questo momento Francesco Chira ha vinto mi sembra due match e ne ha persi quattro giusto perché ne rimangono tre quindi sono dieci nel giro nei nove match quindi sì ne ha persi ne ha persi quattro e ne ha vinti e ne ha vinti due fino a questo momento non è ancora matematicamente fuori nel momento in cui stiamo registrando che è venerdì sera noi stiamo registrando prima dello show del sabato in diretta su JPW World durante il mattino però diciamo che matematicamente sembra molto 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 difficile che comunque lui riesca ancora a conquistare la vitra del girone ripeto non è impossibile ci va una combinazione di risultati abbastanza 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 caotica se vogliamo però sembra comunque molto molto difficile peccato spiace però è anche vero il primo torneo di Freddy's Gochira quindi comunque è tutta esperienza alla fin fine vai si aspetta scusami sto facendo un calcolo ok e si vabbè il primo torneo non c'è molto da dire oggettivamente vediamo come vanno vediamo come va non è matematicamente fuori perché con alcuni incastri potrebbe ancora ancora farcela però è difficilissimo deve battere i sosti all'ultima giornata innanzitutto deve perdere tutti i match innanzitutto tutti i tre i match che gli rimangono ancora nel torneo e poi dietro devono esserci anche delle combinazioni che comunque consentono che dovrebbero consentire ad Akira di recuperare di arrivare a chiudere appaiato praticamente il torneo con Ace Austin ma con il vantaggio dello scolto diretto molto molto difficile guardando il calendario non impossibile perché comunque non è impossibile a livello puramente matematico però comunque complicato questo sì però ripeto tutta esperienza tutta esperienza per Francesco Chira che sta facendo degli ottimi match tra l'altro io sto guardando i match di Akira sono tratto anche match abbastanza diversi dal punto di vista dal punto di vista diciamo dello stile utilizzato che è un bel diciamo è una bella cosa perché comunque dimostra dimostra per questo attento che ricordiamo ancora una volta è giovanissimo ha 22 anni già comunque un ampio range dal punto di vista dal punto di vista diciamo delle cose che può fare ed è una cosa interessante è una cosa positiva anche tra l'altro per il futuro mi è spiaciuto un po' è strano da me che io dica una cosa di questo tipo mi è spiaciuto un po' praticamente come posso dire che il match con Taguchi alla fin fine che mi aspettavo un match comedy alla fine sia stato molto più serio di quanto pensassi perché volevo vedere il match con Chira alle prese col comedy e volevo vedere come se la giusto per curiosità mia e non per altro vedere come se la come se la come se la sarebbe cavata invece in realtà tu match anche abbastanza serio tutto sommato mi è un po' spiaciuto purtroppo sconfitto facendo Chira da Risuke Taguchi però diciamo comunque anche lì una buona una buona una buona prova diciamo da parte da parte da parte sua tu hai potuto vedere qualcosina no non sono riuscito a vedere nulla in questi giorni sono ho avuto altri impegni sono stato in altre faccende affaccendato purtroppo non sono riuscito a vedere stavo cercando stavo cercando un promo che aveva fatto un promo praticamente che aveva fatto Francesco Chira un post match e adesso dammi due minuti che vado che vado a prenderlo perché comunque volevo volevo mandarlo volevo mandarlo volevo mandarlo in onda è un promo dove 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 parla Francesco praticamente post post match e mostra diciamo come posso dire ha la possibilità diciamo di come posso dire di di esprimere di esprimere al meglio diciamo di parlare diciamo per più per più di qualche secondo praticamente diciamo nel diciamo post post match tornando a noi tornando a noi vabbè i prossimi match ricordate prendi il calendario un attimo ricordi i prossimi match intanto cerco allora i prossimi match aspetta che vado a riprendere che l'ho chiuso eccolo qua allora i prossimi match allora per noi per noi allora oggi per noi ma anche per i nostri patria allora per chi si sta ascoltando diciamo di di sabato sì ma sabato non va online quindi ne parliamo di domenica vai allora vabbè ieri sabato 28 ha affrontato Yoshinobu Kanemaro sì esatto poi oggi domenica 29 affronterà Taiji Shimori nel nel premian event sì perché il premian event sarà Robbigo sconto desesperato almeno per come sono segnati come c'è qua sì e poi il 31 il 31 maggio affronterà Ace Austin nel match finale poi il 3 giugno vedremo poi come lo infileranno nella card se non arriva in finale sì perché poi ovviamente diciamo la come posso dire la card dell'ultima giornata come al solito verrà determinata poi in base all'importanza dell'ordine dei match non tanto i match perché comunque i match sono già annunciati però la card praticamente verrà verrà determinata in base all'importanza praticamente dei match e degli incasti che praticamente vogliono che loro vogliono 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 fare praticamente in ottica in ottica torneo eccolo qua credo che sia questo il diciamo il 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 promo eccolo qua il promo di Akira un attimo solo che possiamo che possiamo credo ascoltarlo è un diciamo che già dall'inizio già dall'inizio esprime in modo molto molto dettagliato secondo me la situazione sua all'interno del torneo prego no non è questo chiedo scusa ho sbagliato chiedo scusa ho sbagliato diciamo il eccolo qui credo che sia questo eccolo qua no non è questo qual è quello dove lui dove lui si incazza un po' sconfitto aspetta che non che non lo trovo arca miseria non riesco non riesco non riesco a trovarlo forse è questo fanculo 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 ecco era questo era questo fanculo 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 giustamente era questo è assolutamente questo fanculo 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 credo che Osprey era certo c'è qualche tipo di organizzazione i referee sono contro l'United Empire vengono lo scoprono non lo so 20 volte e ora io solo nel mio terzo match già questo referee non ha visto il mio piede popa Taguchi Taguchi ho chiesto di portare il Taguchi da Apollo 55 e lo hai fatto oggi lo hai fatto ma ero così vicino per l'United Empire la gente italiana per il suo inglese non è assolutamente male che comunque aiuta molto in situazioni in situazioni ma mi ha fatto ridere più che altro l'inizio del provo perché comunque diciamo è vero parla inglese ma ha tirato fuori l'italiano che c'è in lui ed è una cosa molto 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 divertente anche tutto ripeto spiace per i risultati perché comunque sta avendo ottimi match ha fatto datevi vedere il match con Alex Zain che comunque è un match è un match molto 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 divertente anche se alla fine è un match che poi lui purtroppo va 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 a perdere però è una situazione ripeto dove lui fa esperienza secondo me il mio sì certo è il mio modestissimo parere da esterno tu lo conosci molto di più di me quindi diciamo puoi anche puoi anche magari entrare un pochettino più nella sua testa forse no no ma va secondo me alla fine è tutta come si dice è tutta esperienza questa alla fine pretendere di vincere subito in Giappone raramente vinci subito credevo che avrebbe fatto un po' meglio ma più che altro perché comunque l'hanno presentato in pompa magna però tutto sommato penso che anche a lui stesso non dispiace quello che sta facendo oggettivamente cioè comunque lo stanno trattando comunque bene ed è un è comunque avanti comunque sta andando molto bene quindi penso che la situazione migliorerà e basta per lui nei prossimi mesi esattamente lui tra l'altro sarà in Italia giusto che da un lato da un lato è un po' non voglio dire una cosa negativa perché comunque non è una cosa negativa ma il fatto che comunque lui sarà in Italia il 25 giugno in teoria dice che lui non sarà Forbidden Door la sera dopo il 26 in America però se volete andarlo a vedere in Italia dopo praticamente il Brescia Super Junior possiamo dire anche dove tra l'altro sì Rising Sun sì e Squassi Giove ma non mi ricordo che giorni sono è il 25 mi sembra cioè il 25 giugno sì il 25 sì poi in realtà è annunciato ma possono benissimo disannunciarlo in 30 secondi se la New Japan gli dice no non ci vai lì perché comunque vedi i busci cioè nei contratti che hanno loro se la New Japan ti chiama tu corri sì chiaro chiaro però comunque diciamo sarà nel milanese se siete nel milanese praticamente cercate online le informazioni il 25 giugno potrete vedere Francesco Kira alla Rising Sun e l'altra compagnia Squash Jobbers Squash Jobbers esatto Squash Jobbers che tra l'altro sono in zona credo sono abbastanza sì dovrebbero essere dalla stessa zona non credo che non credo che sia una cosa amichevole sfortunatamente però diciamo la concomitanza però diciamo che sarà in entrambi gli show sempre nella stessa nella stessa giornata ricordiamo i match allora per quanto per quanto riguarda Francesco Kira o meglio ricordiamo ancora una volta in chiusura visto che comunque li ha ricordati li ha ricordati poi Mattia qualche 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 minuto fa per chi ci sta ascoltando di domenica nella giornata di ieri c'è stata la giornata numero nove mi sembra del del torneo con per quanto riguarda il gruppo A il tratto match l'apertura Francesco Kira contro Yoshinobu Kanemaru domenica 29 perché ci sta ascoltando subito alla messa online alle 11 e 30 ora italiana in diretta su gpwworld.com con il commento in giapponese e in inglese Francesco Kira è il match numero nove in card quindi comunque il come in event con Francesco Kira contro Taiji Shimori e poi martedì 31 maggio l'ultima giornata del diciamo dei gironi con il match praticamente tra Francesco Akira e Ace Austin che è il match che chiude il gruppo A e poi venerdì 3 giugno alle 11 praticamente ora italiana c'è la finale del Best Super Junior e probabilmente ci saranno match con tutti gli altri partecipanti al torneo quindi Francesco Kira dovrebbe essere in azione magari in un multi tag come di solito succede in eventi di questo tipo per vedere per vedere praticamente la New Japan ngpwworld.com vi ricordiamo che jpwworld.com prende sempre il pagamento il primo del mese quindi in questo momento è abbastanza una situazione sfortunata da punto di vista praticamente se vi abbonate per vedere le ultime giornate del torneo pagate due volte pagate in pochi giorni praticamente poi il primo giugno pagate di nuovo piuttosto aspettate il primo giugno per poter vedervi diciamo in flashback i match praticamente del torneo per quanto riguarda appunto Francesco Kira e anche tutti gli altri match del torneo segnalo tra l'altro per quanto riguarda per quanto riguarda il torneo c'è un notevolissimo Eagles contro il Fantasmo che merita assolutamente la visione probabilmente il match più bello del torneo in questo momento veramente molto 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 bello per quanto riguarda la New Japan tra l'altro poi dopo la fine del Best Super Junior il prossimo appuntamento è il 12 giugno con Dominion in diretta alle 7 ora italiana da Osaka su IGPW.com ricordiamo la card per quanto riguarda i match principali Shingo Takagi contro Taichi per il titolo King of Progress in 2022 Tama Tonga contro The Machine Gun Carl Anderson per il titolo Never Openweight Jeff Cobb e Greto Khan contro Chase Owens e Bad Luck Falè per i titoli di coppia IWGP e nel main event Kazuchiko Kada contro Jay White per il titolo del mondo dei pesi massimi IWGP con ovviamente notevoli conseguenze e poi per quanto riguarda per quanto riguarda appunto Forbidden Door in programma il prossimo 26 giugno a Chicago che è lo show combinato tra IW e New Japan Pro Wrestling altre news della settimana non mi pare ce ne siano abbiamo saltato cose cose degne di questo nome praticamente magari nell'ultima ora o cose così stavo guardando se c'era se c'era qualcosa praticamente ma non mi sembra effettivamente che ci siano che ci siano praticamente altre altre news altre news importanti quindi direi che possiamo passare alla prossima fase del nostro podcast che è quella dove parliamo di quanto è successo nell'ultima puntata di NXT 2.0 e allora parliamo di NXT 2.0 come annunciato qualche istante fa prima della pausa pubblicitaria a meno perché ci sta ascoltando da speaker continua la marcia d'avvicinamento verso Ignorosa che imporiamo la prossima settimana non mi sta facendo impazzire a me questa marcia d'avvicinamento in cosa non ti sta facendo impazzire non è un evento che aspetto con particolari ma non ti ispirano se non ti ispira la card non ti ispira come ci stiamo arrivando a livello di storia in trame le cose in trame le cose sono un po' un po' la card un po' anche come ci stiamo arrivando perché ci sono un po' di cose che non mi convincono intanto l'unico match che sono comunque molto interessato a vedere è quello tra i Pretty Deadly e i Fratelli Creed quello è forse l'unico match per cui ho un po' di hype però il resto non lo so non mi sta sconfinferando tantissimo non so te la storia di Gacy della perta di controllo la parte di Brom Breaker non ti ispira perché neanche a me ispira devo dire la verità non tantissimo capisco dove voglio andare a parare più che altro non so non so spiegartelo non riesco a prenderla sul serio non mi convince quest'idea di Brom Breaker che praticamente perde il controllo a tal punto da perdere il titolo non mi ha dato comunque quell'idea capisco che la storia che stanno raccontando è i giochi mentali da parte di Gacy stanno praticamente rovinando il cervello di Brom Breaker dal punto che lui praticamente si farà squalificare e perderà il titolo che lui rischia esatto perché poi alla fine sai che non succederà esatto esattamente e però non non mi non riesco a prendere sul serio questa cosa non me la bevo diciamo questa cosa e a me spiace perché come tutti ben sanno a me Brom Breaker piace molto è la deriva che ha preso Gioghessi nell'ultimo periodo che non mi l'ho già detto e mi ripeto per ogni volta non mi convince minimamente questa deriva messianica da parte di da capossetta se vogliamo di Gioghessi negli ultimi tempi che non mi convince più che altro bisogna anche cercare di capire che intenzioni hanno con questi due mascherati che comunque continuano a presentare perché o prima o poi dovranno essere smascherati questi due quindi ammesso che ripeto non facciano la fine di Basham quando erano i bodyguard di Heyman ai tempi della ECW made in WWE però vediamo vediamo che succede altre cose allora c'è un cambiamento importante da quanto riguarda il torneo femminile abbiamo la finale del torneo femminile finale che vedremo tra l'altro ne ha In Your House perché è annunciata per In Your House e la finale mette di fronte Roxanne Perez e Tiffany Stratton perché Tiffany Stratton perché Nikita Lyon si è fatta male si è fatta male sul serio tra l'altro non è un infortunio non è un infortunio scenico tra l'altro anche un infortunio che potrebbe essere abbastanza serio perché comunque è una è una cosa è una lesione parziale del legamento crociale mediale e mi sembra uno stiramento anche o comunque uno stiramento diciamo del legamento quindi comunque è una cosa che la terrà dal ring la terrà via dal ring che lo scusa per un po' di tempo se non è una rottura o comunque non è non necessita un intervento chirurgico magari se la cava in qualche settimana o magari uno o due mesi quello che è però comunque per un po' di tempo non la vedremo sul quadrato spiace perché comunque al di là dei commenti che abbiamo fatto sulle sedotti in ring comunque spiace sempre quando comunque una persona si fa male una persona si fa male la finale Roxanne Perens contro Tiffany Stratton del torneo del torneo femminile abbiamo visto le due semifinali questa settimana Tiffany Stratton ha fatto un buon match tra l'altro devo dire devo riconoscere ma Stratton è migliorata tanto è migliorata tanto è oggettivamente migliorata tanto le va assolutamente le va assolutamente riconosciuto che effettivamente è migliorata parecchio negli ultimi negli ultimi negli ultimi tempi nel match di questa settimana ha battuto ha battuto Lash Legend la Stratton ha battuto Fallonelle esatto nella semifinale buon match non eccezionale però comunque un buon match da parte sua è migliorata tanto da quando le hanno anche un pochettino cambiato il moveset quindi è più a suo agio è più nettamente a suo agio sul quadrato rispetto agli inizi Roxanne Perens sapevamo che è brava ne abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione che ha fatto fare un bel match all'Hash Legend che non era impresa facile non era assolutamente impresa impresa facile e non è stato un match lunghissimo cioè i match in generale non sono particolarmente lunghi dal punto di vista del cronometraggio se dobbiamo utilizzare questa definizione però comunque è stata una buona contesa e vittoria da parte di Roxanne Perens come vedi è una finale interessante dal punto di vista del risultato perché comincio a pensare possa vincere Tiffany Stratto non so se vorranno già dare la vittoria a Roxanne Perens per quanto sia la cosa migliore probabilmente per lei però non sono convinto che vogliano farlo già questa cosa il problema è che la campionessa è una hill quindi andrebbero un pochettino a cozzare le due cose avrebbe più senso una vittoria di Roxanne Perens perché comunque è nettamente la migliore delle otto o anzi delle nove in questo caso che abbiamo visto anzi delle sette che abbiamo visto nel torneo non contando Nikita Lions però non so comincio a pensare che possa vincere effettivamente Tiffany Stratto però ripeto è una hill e la campionessa è una hill quindi vediamo come la gestiscono a meno che non abbiano intenzione di far vincere il titolo a Wendy Chu e allora effettivamente puoi anche fare il Tiffany Stratto che tra virgolette incassa la sua tante shot batte Wendy Chu e diventa campionessa di NXT campionessa femminile di NXT però non so se vorranno fare una manovra di questo tipo boh bella domanda bella domanda in realtà e boh bisogna aspettare vedere perché tutto cioè io se come è il solito discorso se io bucassi questa compagnia alla fine la Perez tutta la vita è comunque rampa di lancio è brava è forse quella di tutto il field su cui puoi fare un discorso della breakout star quindi secondo me dovrebbero darla a lei glielo daranno lo scopriremo a In Your House tra l'altro parlando di campionessa femminile continua la cioè c'è la sfida ufficiale da parte di di Wendy Chu a a Mandy Rose per quanto riguarda In Your House e continuano diciamo gli attacchi da parte di da parte di Wendy Chu questa settimana con un sacco di palloni letteralmente no è stata Wendy Chu ha attaccato Mandy Rose col pendola con questo questo sacco gigante di palloni la cosa su cui sono un po' stranito su Wendy Chu è il discorso che c'è ha già perso contro contro Wendy ancora che vuoi che ti dica non avrai abiezione da me su quello intanto vogliamo parliamo rimaniamo in ottica toxic attraction abbiamo l'avversaria cioè abbiamo le avversarie anche per quanto riguarda i titoli di coppia che sono Kayden Carter e Katana Chance che hanno attaccato abbastanza a cazzo tutto sommato le campionesse perché effettivamente è arrivato un pochettino non c'è mai stato uno scherzio tra le quattro sì esatto c'è arrivato un pochettino da nulla però è anche vero che la cintura praticamente è comunque un incentivo importante in situazioni di questo tipo poi cos'altro 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 ma ha fatto molto ridere la frase di diciamo la frase di Barrett non so se te ne sei accorto quando Wendy Chu ha attaccato attaccato Mandy Rose che ha detto che in inglese è Wendy Chu emptying this ball sack on Mandy Rose che ball sack se andate a cercare sul dizionario inglese cosa vuol dire credo che voglia dire anche scroto quindi insomma è una diciamo ha letteralmente svuotato questo sacco di palle su Mandy Rose cosa che è un doppio senso abbastanza 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 interessante Stu Bennett Wade Barrett abbastanza mi sembra che se ne sbatta abbastanza delle cose che dica è una cosa ma un po' tutti un po' tutti mi sembra che mi ha detto Vic Joseph in un'intervista che comunque che comunque diciamo l'istruzione per quanto riguarda la telecronica di NXT è sostanzialmente andate là e divertitevi cioè comunque andate là e dite quello che volete non vi diamo non vi diamo grandissime lo dimostra credo anche tra l'altro l'abbigliamento dei due sono vestiti o comunque del team di commento di NXT comunque sono vestiti abbastanza in maniera casual Wade Barrett è già un po' già un po' più diciamo già un po' più formale ma diciamo Vic Joseph è veramente giacchetta aperta maglietta cioè comunque molto 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 casual e molto 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 chill effettivamente non è come i commentatori che sono in giacca e cravatta praticamente e comunque molto molto formali quindi sostanzialmente abbiamo tra l'altro uno due tre tre match femminili al torneo in your house perché abbiamo la finale del torneo femminile del breakout tournament tra come detto Tiffany Stratton e Roxanne Perez Mandy Rose contro Wendy Chu per il titolo femminile di NXT e Toxic Attraction contro Katana Cens che è in carta per i titoli femminili di NXT tra l'altro parlando apparendo e chiudendo parentesi per il torneo femminile diciamo dei titoli principali di coppia femminili della WWE almeno per il momento sembra che non ci dovrebbe essere coinvolgimento di NXT per quanto riguarda per quanto riguarda il torneo i nomi che sono circolati sono quattro nomi un torneo con quattro team tutti e quattro praticamente sono i quattro team che sono rimasti alcuni ricomposti per l'occasione come Zelina Vega e Carmella vediamo se poi effettivamente sarà così perché Zelina Vega tra l'altro pare che non torni prima di 6-8 settimane perché si è operata quindi comunque mi pare di capire che non se ne parli prima di Summerslam per quanto riguarda questo torneo o magari la finale sarà Summerslam quindi comunque non se ne parla per un bel po' di tempo le cose possono cambiare moltissimo da qui ovviamente al mese di luglio al mese di luglio quando comunque è in programma appunto Summerslam passando ad altre cose per quanto riguarda NXT di questa di questa settimana un po' di cose non hanno avuto contatti o comunque non hanno avuto legami per quanto riguarda per quanto riguarda In Your House a cominciare per esempio da Sangha contro Wesley povero Wesley che viene distrutto e mazzulato da Sangha ma che alla fine Wesley parebbe trovato finalmente il tag team partner o comunque un alleato cioè gli MSK la S di MSK sta per Sangha d'ora in poi d'ora in poi evidentemente il buon Deadly Danda che ci ricordiamo nei tempi di Rinka King ha trovato il suo tag team partner il tutto nato ricordiamolo da un equivoco alla fin fine basandoci sul promo praticamente della scorsa della scorsa settimana più che altro più che un equivoco semplicemente è Coso Wesley Coso non mi viene Wesley se la prende per qualsiasi cosa cioè la storyline di Wesley in questo momento è percorrata è un uomo talmente devastato praticamente dalla perda di titoli di coppia dal fatto che il suo tag team partner non c'è più in compagnia per motivi che ovviamente non possono dire che praticamente se la prende con chiunque se la prende con chiunque e diciamo la diretta conseguenza la diretta conseguenza che comunque le prende dal punto di vista delle botte è vero anche che Zion Queen è arrivato tentando di attaccare lì ma Sanga gli si è praticamente Sanga gliel'ha impedito alla fin fine e praticamente dimostrando a Wesley che comunque ha guadagnato il suo rispetto vedremo se i due saranno come detto un tag team diciamo in futuro parlando di storyline della divisione femminile con non un legame non un legame direttamente con il con Ignorausa almeno per il momento Corajade pare aver iniziato qualcosa con 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 Electra Lopez perché era praticamente a border ring per godersi il match di godersi il match di di Roxanne Perez nel torneo ma prima del match praticamente la Lopez dopo essere stata battuta da da Alba Fire se l'è presa con lei facendo ha fatto volare i popcorn mi sembra qualcosa di semplice che era Bodrico i popcorn e praticamente si parte da lì per questa faida tra le due vedremo cosa ne nasce un buon test per Corajade rimanendo invece in ottica legato del fantasma a Ignoraus non è un match annunciato per il momento ma ci sarà un ultimo cos'è un ultimo riunione da farli praticamente tra 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 non viene il nome tra Tony Di Angelo e Salto Descobar e magari anche gli altri elementi ovviamente di questi di questi cartelli del crimine che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi nelle ultime settimane con appunto Tony Di Angelo e i suoi e i suoi due scagnozzi che ricordiamo si chiamano Stacks e Two Dimes cioè Channing Lorenzo detto Stacks e Troy Donovan detto Two Dimes che tra l'altro battono i poveri Edris 9 Malik Blade che sono ormai le vittime sacrificali di questo show dal punto di vista dal punto di vista dei match di coppia anche se poi alla fine il match il match è stato alla fin fine condizionato cioè non tanto non tanto praticamente condizionato ma poi alla fine praticamente c'è stata una diciamo una una mega rissona praticamente tra i due cartelli tra cartello messicano e cartello italo-americano mettiamola mettiamola così cos'altro da dire cos'altro da dire della puntata buona diciamo abbiamo abbiamo nominato Alba Fire Elettra Lopez più che altro dall'ottica di Elettra Lopez parliamo un attimo in ottica Alba Fire come dove vedi andare Alba Fire praticamente cioè che poi che la fu che l'irrei per la cronaca perché non bella domanda bella domanda qui non ti so dare risposte in questo momento più che altro perché se me l'avessi cioè il titolo non penso che glielo vogliono dare per ora e quindi boh se non gli vogliono dare il titolo in questo momento non saprei che cosa farle fare oggettivamente quindi boh 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 non lo so perché diciamo perché se tu fai Mandy Rose contro Alba Fire dopo ovviamente In Your House in teoria Alba Fire dovrebbe vincere perché comunque ha già dato diciamo dal punto di vista della sconfitta quindi dovrebbe vincere effettivamente non vorrei che ci fossero che ci fossero stati piani per portarla su ma che poi alla fine siano cambiati e che quindi lei sia rimasta di nuovo a NXT perché cambiare il nome di solito è non voglio dire un preludio l'arrivo nel main roster ma spesso è così anche se abbiamo visto dei cambi di nome anche a NXT naturalmente vediamo vediamo cosa hanno in mente vediamo cosa decidono con lei e cosa vogliono fare praticamente a NXT 2.0 poi abbiamo avuto abbiamo avuto abbiamo avuto ecco Mandy Rose contro Indy Arthur parlando di persone che in questo momento sembrano abbastanza abbastanza senza una direzione anche se Indy Arthur è stata comunque tra virgolette protetta nella sconfitta perché comunque c'è stato il caos a Bordo Ring con diciamo con Gigi Dolan e Jessie Jane che hanno fatto casino con Kenan Carter e Katana Cens che le hanno menate per di fatto due segmenti alla fin fine perché erano state erano stati erano praticamente mentre stavano arrivando al ring Kenan Carter e Katana Cens praticamente le hanno attaccate costruendo Mandy Rose a uscire praticamente da sola poi sono tornate di nuovo alla fine del match e di nuovo sono state menate quindi comunque la distrazione è stata importante per quanto riguarda per quanto riguarda la sconfitta da parte di Indy Arthur però Puss è un po' una sconfitta effettivamente anche lei come la vedi diciamo nell'immediato nell'immediato futuro mettiamola così eppure lei non è che non so non so neanche lei che cosa farle fare in realtà perché comunque senza Dexter Lumi cioè era molto più lanciata verso i titoli di coppia oggettivamente lei poi hanno fatto la storia in coi fidanzati poi le hanno licenziato da tag team partner sì e quindi boh anche lei non la vedo bene ma più che altro perché non cioè potrebbe non allora lei non fa schifo perché lei non fa assolutamente schifo però allo stesso tempo non è ancora pronta per andare a per per un titolo per un titolo esatto esatto parlando invece di altre persone sul quale forse qualche piano effettivamente sembra sembra esserci Neandertal Von Wagner che batte Ikemen Giro mazzulandolo di botte anche se alla fine Ikemen Giro un po' di offensiva effettivamente effettivamente c'è l'ha avuta però abbiamo questa situazione con con Sofia con Sofia Cromwell praticamente con Sofia Cromwell che ormai sembra essere praticamente in in completo in completo controllo alla fin fine per quanto riguarda per quanto riguarda il buon il buon Von Wagner lei che lo guida lo comanda un pochettino a bacchetta anche se alla fine non è che lo schiavizza però comunque effettivamente ha un controllo importante su Von Wagner che è un po' la sua arma di distruzione e va detto che la cosa interessante è che comunque fino a questo momento Sofia Cromwell non ha pronunciato una parola perché comunque non abbiamo sentito niente da parte da parte da parte sua quindi vediamo e lei la vediamo sempre che si fa guardare esatto si fa vedere però non ha mai parlato effettivamente sì sì magari fa qualche cenno però però nei confronti di Von Wagner però effettivamente ordini diretti parole non abbiamo assolutamente sentito da parte da parte sua no? sì 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 lei non ha mai parlato bisogna anche capire se lo metterà anche in posto a come si dice Mr. Stone a Stone oppure se rimangono tutti assieme perché anche quella lì è una cosa di cui tener conto nel frattempo però sulla strada di Von Wagner si diciamo si presenta si presenterà a Josh Briggs perché comunque Josh Briggs ha tentato praticamente di ha attaccato praticamente Von Wagner alla fine del match tentando di salvare il Kevin Giro ed è riuscito momentaneamente ad allontanare la ring quindi qualcosina tra i due probabilmente avverrà nell'immediato e gli ha rotto la mano quindi cercheranno di esatto sì esattamente poi abbiamo avuto Carmelo Ace e Triquillians dal barbiere praticamente è stata anche carina come sempre sì esatto Carmelo Ace effettivamente è uno che dal barbiere ci va abbastanza spesso beh allora adesso è un po' razzista quello che sto dicendo però è vero cioè comunque diciamo che nel nell'idea americana nell'idea americana della cosa nell'idea americana il barbiere è un po' il posto dove si ritrovano i sì sì per il chiacchiericcio invece per il chiacchiericcio diciamo esatto esatto spettegulesse mettiamola spettegulesse esatto esattamente e vabbè ricordiamo che poi a In Your House vedremo Cameron Grimes contro contro Carmelo Ace per il titolo nordamericano di di NXT ma poi ma poi ma poi abbiamo avuto una vignetta da diverse città italiane direi perché abbiamo visto Roma abbiamo visto Venezia ne abbiamo avute altre diciamo di città e c'è questo Giovanni Vinci che sta che sta per arrivare praticamente a NXT il promo il promo tra l'altro è bello perché è tutto in italiano non so chi non so chi gliela chi gliela fatto allora ha un alcune frasi sono molto simili a quelle tradotte male sì dal col Google Translate come facevano con i promo di suoi però però diciamo chiaramente è cosa è Fabian Eichner è Fabian Eichner è Fabian Eichner esatto però diciamo che quantomeno hanno trovato uno che parla italiano effettivamente a fare praticamente questo possiamo anche ascoltarlo tra l'altro possiamo riprenderlo è piaciuto il promo sono quelli che tentano di vivere la loro vita al meglio e poi c'è la mia vita di giorno sulla Miranda a Venezia e quando cala il sole di notte nel cuore di Roma che non sono proprio attaccate effettivamente quindi comunque c'è un bel c'è un bel tragitto da fare da Venezia si fa un bel si fa si fa un bello sbattone si esatto a farsi tutto con la strada il tempo è la valuta più preziosa della vita allora perché non viverla nella corsia di sorpasso lo status e questa frase qua della corsia di sorpasso è un po' è un po' si perché perché praticamente dice vita in the fast lane beh la fast lane fast lane non è tecnicamente la corsia di sorpasso andiamo a vedere però si vai cioè è un diciamo che noi che sappiamo l'italiano è un pochino troppo come cioè è un po' strana come frase si si certo esatto beh life in the fast lane life in the fast lane è dei oddio dichiara la canzone aspetta degli eagles che cantavano life in the fast lane quindi comunque è abbastanza un termine un termine che si usa in modo in modo in modo abbastanza comune in America torniamo al promo lo status non è altro che una parola negativa per le persone anche questo diciamo una frase da google translator lo status diciamo non è non si usa moltissimo persone che non riescono a raggiungerlo lo stile è un modo di esprimersi senza dire una parola la moda è la rappresentazione di chi sei con tutto il mio successo ho sete di di più i sogni sono per i sognatori gli obiettivi sono per i vincenti vedi vidi vici è anche vero che la persona che ha mostrato ha il pizzetto e Fabio Nike non ha il pizzetto mi sembra c'è una parte del promo che se lo guardi mostra praticamente il mento della persona e ha il pizzetto quindi si è fatto crescere la barba negli ultimi tempi può essere non abbiamo qualche indicazione ha un profilo social su Instagram possiamo provare a vedere se ci sono novità degli ultimi degli ultimi settimane per vedere se effettivamente si è fatto crescere si è fatto crescere il pizzetto no l'ultima foto è di un po' di è di un po' di tempo di tempo fa è anche vero che però dieci settimane fa lui ha cominciato a postare delle foto dove praticamente era effettivamente in giacca in giacca e camicia molto elegante quindi quantomeno forse è un po' di tempo che questa cosa sta che questa idea è questo rebrand praticamente se effettivamente lui sta balenando vai vai oggettivamente per come stanno usando Walter e lì il Kaiser il Kaiser Guglielmo a cui tra l'altro hanno cambiato nuovamente il nome se vai su www.com cioè in realtà non è un grandissimo non è un grandissimo cambiamento semplicemente prima era lo spelling era Ludwig con la W adesso è Ludwig con la V quindi hanno semplicemente cambiato lo spelling del nome tutto qui ma niente diciamo quello che volevo dire era che comunque effettivamente per come stanno bucando Walter e Ludwig è tornato Ludwig con la W quindi era un errore momentaneo quindi Ludwig con la W secondo me ci sta anche come l'hanno che li hanno splittati mettiamoli in quella maniera ci sta anche per come li stanno bucando in questo momento se non c'era effettivamente intenzione di utilizzarli come di utilizzare praticamente Bartella e Eichner come un tech team effettivamente non aveva senso portare tutti e tre su alla fine pensi che tra l'altro tornando poi ne parliamo quando arriveremo a Smackdown amesso che ci sia ovviamente Gunther questa settimana pensi che ci sia intenzione di fare gli amici attitudini tra continentale a Gunther spero di sì può essere però bisogna aspettare e vedere mettiamola così altre cose da NXT diciamo di questa settimana cosa rimane che non sono il main event rimane alla fine sì perché poi c'è Dukazzo contro Brombeck con Dukazzo che vince per squalifica non un bellissimo finale ma più che altro c'è più che altro perché comunque finisce con una squalifica però è calzante per la storia che stanno raccontando poi la qualità sulla qualità della storia possiamo ovviamente parlarne una vita ovviamente però ne abbiamo detto prima è la storia che stanno raccontando cioè comunque che Gesi e non l'abbiamo detto durante la puntata praticamente ci sono stati cioè è partito mentre c'era un promo di Brombrecker è partito un video di una partita di football e lui ha riconosciuto la partita dicendo che è una partita che suo padre non aveva potuto vedere perché era in Giappone a lottare in una foto cioè comunque giochi mentali da parte di Gesi che stanno praticamente che stanno praticamente peggiorando la sanità esatto esattamente a Brombrecker vedremo in pay per view come anzi il primo live event di NXT nella notte tra sabato 4 e domenica 5 cioè sabato prossimo come si risolverà la situazione prossima settimana NXT abbiamo il Championship Summit con Toxic Attraction al completo con Katana Chance Caden Carter non so se è anche Mandy Rose e Wendy Chu non mi ricordo se avevano annunciato tutte e tre tutte e tre o solamente Jane la Jane e la Dolin con Katana Chance e Caden Carter poi Cameron Grimes contro Nathan Frazier che dovrebbe essere molto interessante come match e Cora Jade contro Electro Lopez quindi già settimana prossima la resa dei conti tra queste due mentre ripiloghiamo la card di In Your House 2022 lo ripetiamo nella notte tra sabato 4 e domenica 5 alle 2 in diretta sul WWE Network e poi disponibile ovviamente on demand dopo Cameron Grimes contro Carmelo Ace per il titolo nordamericano di NXT Pretty Deadly contro i fratelli Creed per i titoli di coppia di NXT Brown Breaker contro Joe Gacy per il titolo di NXT con la stipulazione che se Brown Breaker verrà squalificato perderà il titolo Le Toxic Attraction difendono i titoli di coppia femminili di NXT contro Katana Chance e Caden Carter Tiffany Stratton contro Roxanne Peretz per la finale dell'NXT Women's Breakout e Mandy Rose contro Wendy Chu per il titolo femminile di NXT avevamo saltato anche mi sembra durante la puntata il mini segmento con il mini segmento con praticamente con Damon Reed che aveva informato da Diamond Mine che Roderick Strong non avrebbe lottato questa settimana e con i fratelli Creed e i finali che non erano minimamente contenti è una cosa abbastanza breve tutto sommato però comunque interessante per quanto riguarda la storia la storia praticamente del la storia della Diamond Mine dato che sta andando avanti questo split o comunque questa 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 diciamo questa scesa quasi dittatoriale se vogliamo di Roderick Strong all'interno 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 del gruppo sì 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 poco altro poco altro da aggiungere alla fin fine allora sto passando un periodo in cui non sto vedendo molto bene in show per problemi miei va bene quindi però per questo per questo voglio no lo premetto perché comunque se si nota un'analisi un po' meno interessante rispetto ad altre volte in cui faccio un'analisi un po' va bene non è importante no dico chiaramente che c'è ci sono dei motivi per cui lo sto facendo e non perché non guardo gli show però però comunque quello che comunque sto cercando di seguire di NXT 2.0 devo dire che come costruzione non mi sta facendo impazzire quella di Ignor House per tanti motivi se riesco guarderò assolutamente lo show cercherò di recuperarlo però è vero che non stanno facendo un lavoro che mi sta conquistando mi sta prendendo come magari altri speciali di NXT 2.0 che comunque come ho sempre detto NXT 2.0 comunque nei buoni momenti ha alti e bassi però ha dei gli alti sono comunque buoni non sono eccezionali però sono buoni devo dire che questo Ignor House comunque non so per quale motivo ma sta soffrendo un pochino forse anche un po' un po' sta soffrendo forse per il discorso di giochetti sta soffrendo un po' per giochessi un po' anche per la direzione di tante altre cose cioè comunque anche Cameron Grimes stanno facendo un po' di fatica a bucarlo anche per tutta la situazione con Cameron Grimes col fatto che comunque un pochino sta venendo rigettato dal pubblico quindi questa cosa un po' sta inficiando non so se sei d'accordo su su quello che stanno facendo con lui o comunque sulla storia non so se anche te hai questa impressione beh sui miei dubbi di NXT li sai no no certo certo quello lo so non è diciamo una cosa così inusuale però si ripeto le derive di alcuni personaggi negli ultimi tempi effettivamente non mi convincono e ovviamente la cosa si va a ripercuotere su In Your House cioè andando a vedere la card di In Your House alla fin fine Mandy Rose contro Wendy Chu cioè ok bene cioè comunque dal punto di vista di lottato sarà un buon match però la deriva che ha preso Wendy Chu negli ultimi tempi è veramente troppo fumettosa troppo fumettosa e non riesco non riesco a farmela piacere anche se stiamo parlando comunque di una lottatrice che quando lotta seriamente fa molto molto bene è quello è quello diciamo il punto il punto interessante Tiffany mi interessa per vedere cosa fanno a livello di risultato per vedere se danno la vittoria a Ross e Perez Gigi Don incontro Jesse J incontro Katana Cense e Kaden Carter non è che mi interessi granché francamente no no anche perché poi non hanno fatto niente per farti interessare soprattutto al team delle babyface sono anche di parte nel senso che comunque Katana Cense e Kaden non mi piace minimamente come tech team esatto il team delle babyface non ti viene minimamente voglia di vederlo perché non hanno mai fatto niente per renderteli interessanti oggettivamente le due Bromberger contro Joe Gacy ho già detto ho già espresso i miei dubbi relativamente alla deriva di Joe Gacy quindi non aggiungo nient'altro effettivamente i due match che mi interessano di più sono quelli che probabilmente saranno anche inizio show cioè Pretty Dead contro i fratelli Creed e Cameron Graham contro Carmelo Ace perché comunque so che saranno dei match belli dal punto di vista del lottato non penso purtroppo per i Creed Brothers che vinceranno i titoli perché i Pretty Deadly li hanno appena vinti e comunque funzionano e comunque sono fantastici sono molto divertenti sono molto divertenti anche come personaggi quindi non penso non penso che perderanno già le cinture Cameron Graham contro Carmelo Ace gli do qualche possibilità in più per un cambio di titolo ma non penso no no non penso non penso nemmeno io più che altro mi chiedo più che altro mi chiedo chi arriverà dopo forse magari proprio Nathan Frazier che potrebbe essere potrebbe essere il prossimo il prossimo dopo Carmelo vai orsino dopo Carmelo è solo ah giusto solo Sicoa giusto recuperiamo quella situazione giusto mi ero completamente dimenticato di solo Sicoa cioè ripeto è una sono abbastanza d'accordo con te che la card non è propriamente di primissimo pelo per quanto riguarda questo per quanto riguarda questo show però abbiamo avuto abbiamo avuto altre card che magari sulla carta non erano eccezionali che poi alla fine ci hanno regalato gli ottimi show quindi vediamo no no ma infatti non è quello però è sicuramente interessante è positivo per esempio che ci siano ben su sei match annunciati tre siano femminili per esempio che comunque per per NXT non è una cosa che è successa tanto spesso effettivamente no? ma è vero c'è la finale del torneo va detto che comunque aiuta dal punto di vista matematico se dobbiamo utilizzare questo termine però comunque è positivo che dopo l'esperimento di due settimane fa di fare uno show praticamente tutto al femminile che purtroppo non ha pagato per gli ascolti per il discorso anche nel playoff i miei comunque almeno per il momento stiano continuando su questa strada tentando di diciamo comunque di fare qualcosa con le donne è comunque una cosa positiva vai certo no il discorso è che come si dice hanno secondo me il discorso in questo caso devo fare una roba vai tranquillo mi sono confuso per una roba che sto facendo tranquillo per un lavoro che sto facendo è il bello della diretta anche se siamo registrati il discorso la cosa che la cosa che a me non sta piacendo in questo momento di NXT 2.0 cosa che ripeto è che magari hanno delle idee in alcuni punti in alcuni momenti sono sicuro che hanno delle idee però in altri momenti non sanno dove minimamente dove andare a parare un po' per cercare di seguire il pubblico perché comunque cercano anche di dare al pubblico quello che il pubblico vuole come è anche abbastanza giusto che sia però allo stesso tempo c'è molta incertezza cioè ripeto il discorso di Cameron Grimes è quasi assurdo Cameron Grimes io non capisco più se è Babyface o Hill perché il pubblico non ho capito per quale motivo ha iniziato a rigettarlo sì e adesso poi l'hanno messo nel match con Carmelo solo che ragionandoci se tu vedi il match con Carmelo dici con il match con Carmelo è lui il Babyface sì cioè quindi cosa stanno facendo cioè quelle cose lì mi stanno un po' mandando tra virgolette a male capisci che intendo non capisco non capisco dove stanno andando a parare con queste cose qua che non necessariamente è una cosa negativa cioè nel senso di base non necessariamente avere dubbio o comunque avere incertezza su quello che attende il futuro cioè l'imprevedibilità non necessariamente è una cosa negativa non è assolutamente un male anzi in questo caso però la sensazione sì c'è imprevedibilità perché hai più che altro anche la sensazione che manco loro sappiano dove andare a parare è la direzione cioè non riesci in questo momento l'impressione che non ci sia una direzione e questa è la cosa più che mi dà più mi dà più fastidio capisci che intendo sì sì capisco capisco perfettamente capisco capisco perfettamente mi dà più cioè non riesco a capire dove vuoi andare a parare e quindi anch'io spettatore mentre ti guardo dico ok ma cosa sta succedendo cosa stiamo cosa mi stai raccontando ok e questa cosa qua un pochino mi sta disturbando di NXT 2.0 in questo momento vediamo vediamo come usciamo da diciamo da Ignor House a livello di a livello di equilibrio all'interno del roster cioè comunque passata diciamo la tempesta del pay per view avremo comunque un certo ordinamento per quanto riguarda i campioni per quanto riguarda magari i possibili sfidanti e lì magari ricominceremo ricominceremo ad avere un certo ordine o perlomeno cercheremo praticamente di avere come posso dire magari con il classico reset post grande evento magari abbiamo la possibilità di ripartire da zero e di ritrovare praticamente un certo ordine per quanto riguarda per quanto riguarda delle cose un certo equilibrio vedremo vedremo cosa vedremo cosa accadrà e comunque ripetiamo nella notte tra martedì 4 e anzi martedì cazzo sto dicendo tra sabato 4 e domenica 5 l'appuntamento con Ignoraus comunque stiamo a una prossima andremo online nella notte tra venerdì e sabato con anche la preview ovviamente match per match di nxt Ignoraus vi ricordiamo che invece per vedere nxt lo show settimanale l'appuntamento è nella giornata di mercoledì su discovery plus dalla mattinata inoltrata in avanti su discovery plus con la versione in lingua originale integrale e poi nella notte tra mercoledì e giovedì viene anche uploadato intorno alle 4 del mattino sul WDW netto quindi avete due modi per seguire lo show del martedì sera della WWE almeno in modo legale in Italia congediamo no congediamo niente perché comunque la prossima parte di la prossima parte di Vresti Caffè sarà dedicata a Smackdown quindi teniamo in collegamento l'ultima parte del programma la dedichiamo all'AW con la premio di Double Horn Africa quindi tra pochissimo dopo questa piccola pausa appuntamento con quanto accaduto durante l'ultima edizione di Smackdown prossima parte di Vresti Caffè come detto dedicata a Smackdown e come forse potete sentire dal rumore di fondo Mattia di Noia in macchina negli ultimi 15 secondi si è spostato alla macchina sono in viaggio sono in viaggio per te negli ultimi 15 secondi sono in viaggio in 15 secondi che sono quanto? 12 ore più o meno eh sì più o meno esatto una decina di ore esattamente allora parliamo di Smackdown continua la marcia d'avvicinamento verso Elena Sells si fa per dire perché in realtà non è che abbiano costruito tantissimo durante durante l'ultima puntata a parte forse un match ma lo vedremo vedremo se sarà così probabilmente lunedì a Raw perché abbiamo un nuovo tech team che è composto da Nakamura e da Shinsuka Nakamura e Riddle abbastanza a cazzo tutto sommato però quantomeno la spiegazione in storyline è un'idea di Randy Orton quindi vedremo vedremo come evolve la cosa sai cosa il nemico del mio nemico è mio nemico cioè quella roba lì il nemico del mio nemico è mio amico esatto quindi praticamente hanno perso entrambi i partner e quindi si sono inventati questa cosa qua sì il discorso il discorso adesso vedremo se perché lunedì a Raw c'è un match c'è un tech team match non titolato ed è un championship contender match vedremo se lo vinceranno Nakamura e Riddle e poi così si arriverà la title shot in pay per view però anche qua mi sembra un match abbastanza che in realtà può anche essere divertente anzi penso che sarà abbastanza divertente tutto sommato però è anche mi sembra una cosa un pochettino tirata per i capelli questa cosa che stiamo vedendo abbastanza improvvisata come cosa giusto per mettere un match in più in pay per view che tanto magari poi sbaglio però la sensazione è che comunque è un match che Nakamura e Riddle non vinceranno questo qui no no anche perché secondo me vediamo poi se quella cosa con Riddle per il titolo quando la fanno certo comunque la voce è quella perché bisogna capire perché Roman è stato tolto da One Ender Bank ma magari alla fine lo fanno quel match sì esatto per capire se i piani sono gli stessi o no e quella cosa lì è comunque interessante vediamo secondo me la cosa più interessante della puntata è che secondo me stanno iniziando a girare Babyface e Misein può essere è anche vero che da un lato dovresti provare pietà per lui ma dall'altro dall'altro diciamo che se la va a cercare quindi alla fine non è che ti dispiace più tanto diciamo ne parlavi prima ne parlavi prima prima tu anzi sulla chat sulla nostra di Whatsapp effettivamente l'idea degli usos che distruggono di Mazzate e Misein non è probabilmente sbagliata arriverà a questa cosa qua no esatto magari in un futuro neanche troppo lontano vai ieri hanno iniziato a costruire secondo me hanno iniziato a mettere nel personaggio un pizzico di mi viene mi viene tambi in inglese perché simpatetico non esiste in italiano però sì però effettivamente cioè dovresti provare pietà per sé perché è veramente patetico cioè il discorso è quello esatto più che il segmento con gli usos mi ha fatto impressione il segmento con Kevin perché io quando ho visto il segmento con Kevin ho detto ma stanno girando face semi perché che always ha fatto proprio il discorso guarda che questi guarda che non conti un cazzo per nessuno nessuno ti vuole tutti ti odiano esatto vedendo quel segmento mi dà l'impressione che stia iniziando a mettere nel personaggio una punta di che poi lo porterà ad essere un babyface nel senso quando lui inizia ad accorgersi che nessuno lo vuole che tutti lo odiano e quindi poi fa il giro perfetto è l'unica cosa che non va bene però è una cosa che comunque ci vorrà il suo tempo non è una roba che fai da un giorno all'altro perché è vero ad oggi non provi pietà per lui chiaro e poi più che altro la domanda è poi solita è un gol qual è? cioè ok lo giri babyface magari lo fai rivoltare contro la bloodline però poi cosa ci fai con lui? è quello a meno che come diceva coso come diceva come diceva coso Michael Michael ok non giri i owens babyface riformi gli stinerico e vanno per il titolo e battono loro gli user per i tuoi unificati potrebbe anche essere quello l'end goal puoi farlo non mi sembra una cosa particolarmente nuova nell'originale però vediamo vediamo un po' cosa possono fare ovviamente lasciamo respirare la storyline anche perché comunque diciamo il prossimo passaggio è stato immediatamente dopo rendere praticamente semi zain almeno ufficialmente almeno ufficialmente un uso onorario poi vedremo ovviamente effettivamente sembra la cosa un preludio effettivamente a un pestaggio di quelli proprio in grande stile per diciamo per semi zain molto probabilmente dovresti dire molto probabilmente verrà quando ritornerà a Roman Reigns però non tanto un pestaggio però lo trattano proprio come uno schiavo lo umiliano cioè umiliazioni continue finché semi non sbrocca è un po' tra virgolette quello che pensavamo sarebbe successo con Jay l'anno scorso sì esatto è vero è verissimo vediamo che succede semi diventerà essenzialmente lo sguattero quello che baffa per i tre mettiamola così sì sì è assolutamente quello è assolutamente quello già adesso è così vedendo per come l'hanno fatta in questa puntata qua ho l'impressione che sia l'inizio del suo turn face che arriverà tra un bel po' in maggio sì 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 non se ne parla per un po' subito però diciamo che una soluzione potrebbe veramente essere quella semi l'unico amico di semi è Kevin perché se lo sono detti oggi anche se mi ha fatto molto ridere la battuta l'ultima volta che ci siamo visti non andavamo poi così d'accordo però sei il mio miglior amico sì sì esatto quella roba che mi ha fatto ridere è vero però però nel senso è un end goal che potresti vedere anche perché comunque alla fine rimarranno entrambi rimarranno da soli perché ci sarà Owens che probabilmente la faida con i zig e la perde e rimarrà da solo a smadonnare perché nessuno nessuno gli crede semi rimarrà da solo e magari poi si fanno contro gli usi insieme può essere anche quello vediamo vediamo cosa accade uno è dirò uno di SmackDown ma tanto il breastplate è finito sì sì lo stanno bellamente ignorando cioè o quasi cioè ripeto mi ha fatto molto ridere il tweet di Andrew Zerian che ha detto ho parlato con gente in WWE mi ha detto no il brand split non viene interrotto però sposteremo gente a cazzo secondo delle storyline sarà a nostro piacimento vabbè allora ditelo che ditelo direttamente che tanto il brand split è abbastanza finito tutto sommato beh per dire anche 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 l'unedì a Raw avremo Riddle e Nakamura che è di SmackDown contro gli Usos che tecnicamente sono di SmackDown però almeno in questo momento sono campioni di coppia anche di Raw quindi diciamo che almeno quello degli Usos è spiegato il fatto è il fatto sono le continue apparizioni di gente degli altri roster che diciamo stanno aumentando in numero e non diciamo non depone molto a favore del brand split ma vabbè diciamo che non è la prima né l'ultima volta che cade una cosa del genere ma poi con i numeri che hanno il brand split è inutile cioè i numeri di un anno fa ma dopo tutti i licenziamenti che hanno un brand split non lo puoi tenere con due roster sai cosa dipende dipende alla fin fine cosa vogliono i network cioè se i network vogliono le superstar esclusive è un discorso se non li vogliono non le vogliono allora possono anche sbattersi nelle balle la cosa strana è che tra l'altro in queste settimane loro hanno ricominciato a fare due out show durante il weekend cioè tecnicamente è un show di Raw e di SmackDown però in futuro probabilmente potrebbero fare semplicemente due gruppi e mettersi d'accordo però bisogna vedere anche il livello di star power ovviamente di questi due gruppi o comunque si chiamino Raw, SmackDown o quello che è vero anche che li fanno il sabato e la domenica quindi possono ancora gestirseli quelli sì quello sì però se li facessero una settimana ovvio certo con la concomitanza con la SmackDown già sarebbe un problema beh però non ha neanche senso competere con se stesse però il discorso alla fine cioè non ha senso fare un show alle 8 di sera che poi alle 8 di sera c'è SmackDown in televisione non ha senso c'è stato il periodo c'è stato il periodo che fanno diciamo lo stesso di Raw di SmackDown durato molto poco durato molto poco fortunatamente perché non ha al minimo senso dal punto di vista dal punto di vista promozionale una cosa di questo tipo l'altra cosa cioè altre cose della puntata alla fine fine non tantissimo diciamo che il mystery partner del New Day era diciamo il mistero meno mistero degli ultimi tempi comunque era ovvio l'abbiamo detto anche settimana scorsa che magari sarebbe stato Meketar e infatti così è stato così è stato alla fin fine è stata una puntata anche abbastanza abbastanza fiacca a parte diciamo non orribile però abbastanza fiacchina tutto sommato dal punto di vista si lascia guardare però non ti lascia nulla sì cosa che non depone onestamente molto a favore del pay per view domenica prossima però vedremo vedremo cosa vedremo cosa accadrà da quel punto di vista entro il prossimo weekend anche perché siamo già ai go home quindi in questo momento la card la card del pay per view comprende cos'è tre match mi sembra annunciati per il momento per Alina Sel Alina Sel tra Cody no no chiedo scusa chiedo scusa allora ne abbiamo ne abbiamo allora abbiamo quattro match abbiamo Cody Rose contro Seth Rollins l'Alina Sel Bianca Belair contro Asuka contro Becky Lynch sarà sì sarà il main event anche al momento è l'unico match poi abbiamo Bobby Lashley contro Omos MVP e Ezekiel contro Kevin Owens Wikipedia segnala anche Usos contro Nakamura e Riddle non credo che sia quello e anche il 3-4-3 tiro femminile e l'ho detto Bianca Belair Asuka Becky Lynch ok l'ho detto l'ho detto sono quattro match annunciati ne mancano un paio almeno perché l'ultimo l'ultimo pay per view era magari Ro potrebbe rannunciare il 3-3 di Jasmine Day contro il Bullet Club Liv Morgan e G-Styles e Finn Balor sì esatto poi fa così vedremo vedremo un pochettino l'ultimo l'ultimo il video aveva 6 match in programma vedremo vedremo in questo primo live event a che punto arriveremo a livello numerico per quanto riguarda i match in programma trovando Smackdown praticamente di ieri sera molto buono il promo iniziale degli Uros che fanno diciamo i finti umili all'inizio e poi e poi alla fine ridiventano funziona sempre funziona sempre funziona assolutamente sempre semprissimo il promo di finta umiltà funziona funziona sempre è incredibile come funzioni ogni cazzo di volta sì sì assolutamente assolutamente sì e poi 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 cosa abbiamo cosa abbiamo avuto vabbè c'è stata diciamo l'arrivo di Nakamura che vuole vendicarsi praticamente degli Uros per sostanzialmente aver infortunato Bux questo è il senso e anche per essere stato menato poi nella puntata post post Wrestlemania e poi arriva come detto Riddle che è il suo nuovo tech team partner acquisito scopriremo poi tra l'altro più avanti che è il tech team partner scelto praticamente scelto praticamente da Randy Orton comunque un'idea di Randy Orton questo tech team abbastanza improvvisato non so se Mattia è ancora in collegamento perché non sento più il ritorno in cuffia no infatti non è più in collegamento quindi aspettiamo un attimo di ritrovare il collegamento e poi continuiamo il discorso ecco qua abbiamo ritrovato Mattia in collegamento sotto un piccolo piccola noia tecnica che risolviamo dicevo dicevo poi altre cose di Smackdown abbiamo avuto abbiamo avuto Ron Rousin a Keir Rodriguez che è durato ben 54 secondi prima dell'interferenza e la squalifica prima abbiamo avuto Shotzi che ringa le truppe nel backstage praticamente perché c'è la ribellione delle hill praticamente come permettete che Raquel vi passi davanti in questo modo ma la cosa che mi ha fatto più ridere è Alia che all'improvviso ha le chiavi dello spogliatoio non si sa non si sa come credo che sia anche una cosa dannatamente non sicura vai scusa credo che sia anche una cosa dannatamente non sicura dal punto di vista della sicurezza il fatto che un atleta abbia abbia praticamente le chiavi dello spogliatoio però vediamo come va la cosa che ci vuoi fare? Fai da tra Shotzi e Alia chi perde è licenziato però no però diciamo guarda quanto meno stanno dando qualcosa da fare effettivamente a Shotzi la cosa mi va anche bene bisogna vedere chi delle due vincerà la Fai però almeno stanno facendo qualcosa con entrambe cioè comunque oggettivamente entrambe più Shotzi che Alia perché Alia è quello che è però un pochino stavano latitando a livello di di presenza di presenza di presenza di screen detto questo detto questo in tutta questa situazione ovviamente chi è che la prende in quel posto? naturalmente Shayna Bessler che è quella che subisce lo schienamento anche in questo caso quando ho visto il match ho detto vabbè fai schienare fai vincere le heal in qualche modo così poi arrivi al pay per view e fai Shayna contro Ronda Shayna contro Ronda o Natalia contro Ronda che almeno c'è anche una storia dietro il fatto che no bene no nope non era nei piani evidentemente evidentemente Ronda non c'è a questo qui per view però se non ce n'è anche a Man in the Bank sono cazzi acidi però in questo momento comincia a mancare un po' di gente effettivamente fai a capire come hanno idea di gestire la cosa dopo che le altre decisioni sono andate perché il problema che con Ronda è andato tutto il ramengo anche perché in teoria ci doveva essere Sasha contro Ronda non c'è più perché ha deciso di andarsene esatto diciamo che è ufficialmente sospesa è ufficialmente sospesa anche tra l'altro senza paga tra l'altro credo che funzioni funzioni del tipo hai già preso il tuo downside garantì per l'anno tra bonus e tutto quanto quindi non dobbiamo più pagarti comunque il tuo minimo l'hai già comunque preso per quanto riguarda l'annata il fatto che le abbiano bloccato il merchandising a lei e a Naomi impedisce anche di ottenere altri soldi ottenere altre royalties esatto per quanto riguarda loro tornando a Smackdown abbiamo avuto Lost Notaries contro Jinder ma Ale Schenke abbiamo avuto il ballo dell'estate sì ma soprattutto ma perché i grandi grossi scordinati devono tutti ballare in questa compagnia mamma mia abbiamo avuto quello abbiamo avuto anche il ballo dell'estate non sarebbe il ballo dell'estate il ballo di Schenke che meraviglia aggiungerei aggiungerei anche c'è un'altra cosa che volevo aggiungere più che altro mi ha fatto anche molto ridere quando Cole ha dovuto parlare del cambiamento per quanto riguarda Man in the Bank e ha detto adesso Man in the Bank si svolgerà nella sede più intima dell'MGM Grand Arena eh sì direi che un'arena è un po' più intima effettivamente eh sì c'è certamente un modo un modo di definirla quello sì sai che mi ha fatto molto ridere quando ho visto il pezzolo dove Schenke ballava con la FIM ballava con la FIM di Gindermal innanzitutto e ci provava con la L'Aviglia se ho detto vuole fregare la donna Ricochet adesso sì esatto esattamente eh poi vediamo un pochettino cosa c'è allora quando di Ricochet va avanti la cosa di Hunter sì vediamo se porta qualcosa sì l'intro l'intro di l'intro di Ludwig Ludwig Kaiser diventa ogni settimana più solenne tra l'altro siamo siamo a livelli notevoli come è giusto che sia sì tornando c'è un'altra cosa Macaboss tornerà la settimana prossima purtroppo aggiungerei anche però vedremo cosa vediamo come speriamo che sia l'inizio del suo ribrand beh McAfee ha detto no 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 una roba del genere quindi boh però l'hanno presentata come Macab te l'ho detto settimana prossima si presenterà col Codino cioè no Codino ce l'ha già quindi niente si presenterà vissuto come George Cardin sarà la sua evoluzione diventerà uno stand-up comedian praticamente le battute aumenteranno di livello come Crusty quando ha cominciato a fare lo stand-up comedian però non lo so se le battute aumenteranno di livello contando quanto era basso il livello delle originali beh peggio penso che possa peggio penso che sia difficile fare va detto peggio in effetti è dura sì poi abbiamo 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 detto vabbè Gunther Ludik Kaiser battono Ricochet e Drugulak sempre diciamo abbastanza abbastanza imbarazzante o comunque abbastanza cringe vedere degli austriaci che menano un ebreo in questo caso Drugulak tornando a noi abbiamo poi no cosa c'era di altre cose aspetta che vado a rivedere ah Max Dupree praticamente comincia anzi Max Dupree pronunciamolo bene comincia esatto comincia la ricerca la ricerca praticamente della sua prima della sua prima stella ieri nel Dark Match ci sono stati Mansur di Nuove Mason non avevano notato il fatto che si chiamano tutti con la M quindi che diciamo credo che sia un indizio contando anche che la com'è che si chiama si chiama l'azienda Maximum Male Models credo che sia che anche quella tutte con la M quindi mi sa che saranno tutti con la M veramente anche anche in questo caso e poi il main event di SmackDown con New Day e Drew McIntyre che ovviamente praticamente è il tag team partner del New Day contro i Brolin Brutes non avrei fatto ballare McIntyre alla fine però vabbè McIntyre che deve essere deve essere il main eventer dello show in Galles primo show in Galles da 30 anni a questa parte il diciamo il duro con la spada il duro scozzese con la spada e tutto il resto che balla che balla con New Day alla fine vabbè però comunque alla fine non è mai cioè McIntyre ha avuto anche i suoi momenti meno seriosi quindi possono cioè meno seriosi nel senso che comunque fagli fare quel balletto lì non lo rende un coglione no quello no quello no non sto dicendo quello lo rendeva molto più un coglione fare professor McIntyre ah sicuro non li stanno più facendo fare porca vacca che bello non dirlo ad alta voce 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 guarda o almeno almeno è 3-4 mesi che non li fanno fare professor McIntyre almeno quello vedremo vedremo un po' cosa succede ripeto non molto da segnalare alla fin fine la parte di Smerlone è abbastanza breve questa settimana perché ripeto siamo una settimana alla pay per view e non è che anzi la prima non è veramente chiedo scusa e non è che stiamo facendo granché per costruire questo pay per view fino a questo momento vai visto che parlavamo l'altro giorno con i podcast nel podcast di Patreon mi sembra che stiamo tornando a quel periodo in cui Ro dovevi guardarlo perché avanzavano le storyline e a SmackDown non succedeva un cazzo la differenza è che SmackDown è lo show di serie A tecnicamente perché è su forza e in più piccato è lo show del campione in questo momento comunque tutti i nomi più grossi sono tutti a SmackDown se andiamo a vedere a parte Becky Lynch ovviamente per ovvi motivi e Cody e Cody in questo momento sì Cody in questo momento assolutamente è una questione strana è una situazione strana e vedremo la settimana prossima ripeto non ho grandi aspettative francamente per per Elena Sella e va detto con il cambiamento da da stadio ad arena e la cosa non mi fa ben sperare neanche per Money in the Bank però però almeno Money in the Bank c'ha i Money in the Bank però i Money in the Bank esatto sì diciamo che c'ha quei hedge che sono più già più interessanti sai cosa il Money in the Bank è stato talmente massacrato negli ultimi anni a livello a livello di incassi cioè comunque gli incassi e comunque la gestione la gestione della valigetta è stata rivedibile quantomeno nella maggior parte dei casi e poi più che altro anche gli incassi bene o male bene o male per quanto riguarda gli incassi hai fatto non voglio dire tutto quello che puoi fare a livello creativo ma quasi che comunque alla fin fine mi lascia un po' così il Money in the Bank immagino probabilmente sarà bello perché i ladder match sono sempre nel maggior parte dei casi sono quasi sempre divertenti però per dire a livello di incasso aspetto di vedere chi esce vincitore dal Money in the Bank perché comunque ripeto hai fatto già praticamente tutto con il Money in the Bank quindi ci andrebbe un cambiamento di approccio per quanto riguarda per quanto riguarda l'idea della valigetta e la diciamo la title shot con la valigetta però in questo momento non saprei nemmeno dirti quale potrebbe essere questa idea vedremo cosa succederà e ne parleremo poi di questo a inizio luglio quando ci sarà ovviamente Money in the Bank ah per quanto riguarda per quanto riguarda Smackdown non ha annunciato mi sembra niente per settimana prossima a parte il ritorno di il ritorno di Macaposs che insomma non mi pare un grande punto di vendita però vedremo è l'ultimo show prima appunto di di Ali Nassani per un prossimo weekend a Chicago ne parleremo la prossima settimana quando faremo poi anche l'ampia preview del del primo live event dell'ultimo live event di domenica per un bel po' di tempo perché poi praticamente praticamente fino a fine anno sono tutti di sabato mi sembra e anche di sabato anche quello sai mi sembra aspetta un secondo che vado mi sembra di domenica ma ti dico che su Ravosiris è durante la stagione NFL quindi probabilmente non vogliono non vogliono diciamo la concorrenza su Peacock con l'NFL perché allora hanno i diritti della partita di domenica 26 controllo subito 26 novembre 2022 la data ed è vediamo un pochettino è un sabato quindi sì fino a fine anno sono tutti di sabato fino da diciamo da mani in the bank in avanti molto comodo molto comodo per noi per la visione e tutti tutti i vari cosa che facciamo molto comodo direi va bene c'è un sacco di gente che ogni volta ci scrive che palipi perché è il sabato che merda vaffanculo sono la roba più bella del mondo per noi che ci rivediamo in diretta più che altro sai cosa magari essendo fossimo in america effettivamente ci romperemmo le scatole perché comunque sabato sera esce quindi è anche abbastanza normale che comunque magari non c'hai la voglia di vedere un pay per view il sabato sera per noi che siamo in Europa che sono nel cuore della notte tra sabato e domenica è molto più comodo che il nostro domenica come dire ma tutta la vita tutta la vita ma buono congediamo Mattia di noi che lasciamo al suo viaggio che ritroveremo ritroveremo martedì sera intorno alle 23 vai bisogna capire come ci chiaro esatto allora molto dire velocemente io sarò in Sicilia settimana prossima per vacanza slash lavoro esatto quindi dovremmo gestire un po' le registrazioni tutto il resto perché tipo io non posso fare tutte le ore che faccio nel caffè e non guarderò praticamente nessuno show settimana prossima perché tanto sono in aereo e quindi me lo guardo il po' show vediamo se parlo di pomeriggio o ci organizziamo noi e vediamo 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 il da farsi vediamo ovviamente il da farsi vai settimana prossima sarà un po' ballerina tutta la situazione esatto vedremo di organizzarsi a livello di registrazione naturalmente benissimo bisogna capire esattamente sicuramente comunque ci sentiremo in qualche modo ci sentiremo alla fin fine è giusto coordinarsi almeno però sì poi negli altri show vedremo vedremo esatto quindi grazie mattina di noi che ritroveremo con i prossimi appuntamenti e tra pochissimo tra pochissimo l'ultima parte di Vressing Cafè dedicata alla preview di AW Double or Nothing tra pochissimo grazie ultima parte di Vressing Cafè che dedichiamo alla preview di Double or Nothing visto che andiamo online prima del pay per view pay per view particolarmente ampio a livello di a livello di match quindi andando a esaminare i match credo che copriremo tranquillamente anche tutto quello che è successo a Dynamite e Rampage di questa settimana lo facciamo come sempre con Alessia Di Donato buongiorno Alessia ciao ciao Eric ciao a tutti e tutte sì calmati calmati che c'hai il fiatone innanzitutto eh sono salita adesso lo sai io ho questo appuntamento quotidiano col cane pomeridiano che è praticamente un training quindi calmati un attimo sediti rilassati che adesso con 40 gradi all'ombra ebbè sì immagino immagino allora abbiamo una card di pay per view veramente molto ampia forse troppo secondo me perché abbiamo perché abbiamo ben 13 match annunciati per tra l'altro Tony ha detto che se c'era gara 7 il main event ce lo praticamente andremo a dormire alle 8 della mattina lui ha detto che farà ritardare l'inizio del main event fino alla fine di gara 7 tra Miami e Boston Celtics che ci sarà domani notte perché perché Miami ha vinto gara 6 nella notte tra venerdì e sabato la gara inizia alle 20 e 30 ora ora locale quindi le 20 e 30 della costa della costa est nel peggiore dei casi non prima dell'11 e mezza quindi comunque le 5 e 30 in Italia il tutto sta a vedere come saranno collocati i 12 match se il pay per view durerà durerà più di 4 ore nel senso inizia alle 2 sei pronto ad andare a dormire alle 8 secondo me ce la caviamo per le 6 però va anche detto che i match sono tanti sono veramente tanti in questo in questo pay per view quindi adesso andando andando praticamente a vedere match per match andiamo anche probabilmente a parlare della costruzione e di domanda secca quant'hai è un buon pay per view non è il pay per view pay per view e i w per il quale ho avuto più aspettative in assoluto però il main event è forse il più incerto che hanno fatto esatto abbiamo detto la stessa identica cosa il main event è molto incerto perché comunque si possono tranquillamente si possono tranquillamente dare obiezioni o comunque sollevare punti a vantaggio sia di una conserva del titolo da parte di Adam Page che sollevare punti a vantaggio di un cambio di titolo per CM Punk quindi vedremo e poi altri match che ti piacciono MJF contro Warlow più che altro perché è forse quello che è costruito meglio dell'intera card da Joe contro Cole mi aspetto abbastanza dovrebbe essere un buon match io anch'io Thunder Rosa contro Serena Dib è un altro da cui mi aspetto abbastanza perché comunque è un buon sulla carta può essere un ottimo match Jericho Precision Society contro Blackpool Combat Club Kingston Santana Ortiz dovrebbe essere il classico 5 contro 5 cacciarone esattamente mi aspetto abbastanza anche per poi ne parliamo in dettaglio mi aspetto abbastanza anche dal match per i titoli di Coppia che mi aspetto un cambio di titolo quindi vedremo cosa accadrà da quel punto di vista finalmente mi hanno messo Darby Allin ero orfana e ce l'hanno fatta tra l'altro in un meccione che per me potrebbe essere tranquillamente un come in event tranquillamente andiamo con ordine perché è un match a uno scontro di stili quel match lì però cominciamo dal buy-in che tra l'altro durerà solo mezz'ora questo giro la prima mezz'ora probabilmente sarà occupata anche perché quell'altre durano 5-6 ore sì esatto si dovrebbe partire cioè si parte in realtà a luna di notte però a luna di notte dovremmo dovremmo avere diciamo la replica del countdown praticamente per quanto riguarda per quanto riguarda del buy-in anche in diretta come sempre su sky no beh l'ultima volta è durato un'ora alla fine perché aveva messo tre match quindi non c'era stata la replica del countdown però aspetta hanno fatto quei tre match erano 40 minuti poi hanno fatto tutti i video package sì quello sì stavolta no però le altre volte facevano mezz'ora con un match dalle sette e mezza e poi la prima mezz'ora dall'uno all'uno e mezza era la replica quasi integrale praticamente del countdown che tra l'altro devo ancora vedere perché non ho ancora visto il countdown dello show vabbè assolutamente comedi diciamo alla fin fine penso che vedremo una vittoria da parte di Huck e Danhausen non credo che ci siano non credo che ci siano problemi praticamente da quel punto di vista assolutamente sì assolutamente sì poi la pay-per-view non so come aprirlo francamente andiamo con l'ordine dei match che ho su wikipedia praticamente ok se no se vuoi fare un po' di come facciamo noi no la nostra totocard la facciamo eh ma non so da che parte da che parte iniziare allora se vuoi partire magari in modo in modo caldo partiamo con il triple threat per i titoli di coppia che secondo me è un match potrebbe essere è un match che può che può diciamo che può che può iniziare bene vai ma ti rilancio con Adam Cole siamo a giù a finale del torneo subito inizio pay-per-view poi possiamo farlo perché mi sembra non ha titoli però è comunque una cosa che da opener è un bell'opener secondo me allora facciamo facciamo il triple o il trial in Kylie anche quello anche quello vabbè alla fin fine possiamo partire diciamo che non partiamo con MJF contro Wardlow diciamo primo e non partiamo con M&Page contro CM Punk questo mi sembra abbastanza ovvio allora vabbè andiamo in ordine di Wikipedia poi vediamo vediamo poi eventualmente di ipotizzare un ordine anche se ammetto ci sono 12 match quindi comunque è molto difficile l'ordine Kylo Reni contro Darby Alli match che nasce dall'attacco della settimana scorsa Dynamite con Sting che è stato infortunato con la buon vecchia Pillmanizing cioè la sedia praticamente sulla sua caviglia e appunto infortunio per Sting che tra l'altro non sarà neanche in teoria Double or Nothing perché questo weekend non può viaggiare quindi diciamo non sappiamo se sia un infortunio reale o se abbiano fatto l'angle per mascherare un infortunio o se invece motivi di storia comunque il fanfest non c'era hanno dovuto anche rimborsare ha dovuto disdire anche il fanfest quello che stavo dicendo esattamente cosa che mi fa pensare probabilmente qualcosa c'è però vediamo qualcosa perché sì è vero che poi vai a rompere la gimmick e il racconto però effettivamente il fanfest la gente paga esatto vero che gli ha rimborsati però comunque una cosa per motivi di storyline non sarebbe carina diciamo nei confronti dei confronti dei appassionati infatti io guarda credo semplicemente che lui abbia qualche acciacchino che stia cercando magari ha bisogno di un po' di tempo e quindi e la cosa è stata coperta praticamente con l'attacco della settimana scorsa probabilmente esatto quindi Kylo Reilly contro Darby Allin è uno scontro di stili perché Darby Allin e Kylo Reilly hanno due stili completamente diversi quindi assolutamente sì quindi dovrebbe cioè bisogna vedere come legheranno sul ring è vero che Kylo Reilly difficile che non leghi con qualcuno dal punto di vista dell'ottato però può accadere ma proprio da Mark ma in realtà da Mark di entrambi quindi va a pari poi la cosa secondo me sarà un banger questo match vediamo il match che non ci aspettavamo ma sarà bellissimo vediamo vediamo un pochettino come vuole la cosa perché il discorso di avere tanti match durante questo pay per view e di avere vediamo quanto a livello di a livello di durata ovviamente ci pone anche un altro interrogativo cioè la durata dei match perché comunque non tutti i match possono durare 20 minuti è ovvio perché non ci stanno però è un peccato se anche non fosse cioè se fosse troppo corto sarebbe un peccato se fosse 8 minuti sarebbe un peccato anche se magari se magari lo giochi a 100 milioni a questo questo lo faranno dai 10 ai 15 esatto esattamente esattamente puoi fare così quello sì bisogna trovare la quadra a livello di lunghezza del match e non è semplice me ne rendo conto infatti ritorno al discorso di prima probabilmente questa card è a livello semplicemente di numero di match forse un po' troppo carica cioè forse un paio di match potevano anche essere lasciati fuori proprio perché comunque hai questo problema mi sono lamentati vedi come mi sono lamentata io del fatto che non ci fosse darby poi i pay per view e i darby storicamente passano abbastanza bene anche perché comunque sono molto vari dal punto di vista diciamo sono snelli non è tanto snelli il fatto che comunque vedi robe cioè non vedi 12 match lottate allo stesso modo vedi diciamo dei match anche dei match molto molto diversi gli uni dagli altri quindi comunque hai anche intendevo quello all'occhio non vedi mai la stessa cosa capito nel senso passano te li godi insomma proprio perché non sai mai cosa c'è il match dopo certamente certamente no per quanto riguarda all'in kyle io penso che sia darby lo conosco con questo tipo di stili effettivamente alla fine lega bene non so quanto poi loro abbiano lottato in precedenza sul ring non ho dato non molto non molto infatti perché vengono da mondi diversi no ma più che altro perché kyle randy è stato per diversi anni in ww mentre darby allen faceva la sua scesa esatto esattamente non so se è un first time ever non so se è un first time ever vado un attimo a cercare il il precedente si può essere infatti mi veniva questa questa ipotesi però secondo me i due faranno scintille perché vabbè kyle è di talento indiscusso e cristallino darby quando è nei pay per view esalta moltissimo sia l'avversario che con lui ed è una cosa allora c'è esattamente c'è esattamente un confronto tra i due in precedenza ed è un tag team match tra i red dragon e darby allen e matt cross cioè ah perfetto sì sons of evoc di lucian di lucian del grado che se lo ricorda ed è uno show della defy del 2017 quindi non sono fatto esattamente solo una volta è quasi un in singolo è un first time ever diciamo quindi però anche perché credo che sia tra l'altro credo che sia tra l'altro praticamente poco prima eh sì praticamente uno degli ultimi match di Bobby Fish e Kyle Riley prima dell'arrivo in WWE perché è un match del giugno del giugno del giugno 2017 30 giugno 2017 e loro hanno debutato ad agosto quindi quindi è proprio uno degli ultimi match nelle indie praticamente vai scusami no no assolutamente hai ragione quindi è vabbè first time ever in singolo io sono veramente molto entusiasta sono curioso sono anche molto hype ridendo nelle mie storie di Instagram ho detto il mio main event quindi figure sono molto hype per questo match vediamo vediamo un po' cosa accadrà e sono curioso per lo scontro di stili perché comunque è uno scontro di stili questo 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 match poi andiamo avanti Jay Cargill contro Anna Jay costruito anche questo nelle ultime due settimane questa contesa costruito male possiamo dire mi dispiace per Anna Jay però è l'ennesima vittima di Jay Cargill certo non credo non credo che Jay Cargill perderà il titolo alla fin fine assolutamente sì e manterrà la cintura ma non mi aspetto neanche un match particolarmente lungo questo può andare 5-6 minuti tranquillamente e non ci sono e non ci sono problemi concordo nessuna obiezione House of Black Malakai Black Buddy Matthews Brody King contro Puck Pento Scur Ray Phoenix è un po' è una replica esatto è una replica del match di Revolution con qualche cambiamento perché perché non c'è Eric Redbird in questo match ma abbiamo praticamente il vabbè c'è la formazione originale esatto in forma completa non saprei dirti chi vincerà questo match nel senso se l'ultimo confronto se l'ultimo confronto mi viene da dire l'House of Black però è anche è anche vero che no ti vado con l'House of Black se devono fare la terza allora no però io pure propenderei per l'House of Black credo che sia proprio l'ultimo match questo perché è stato anche venduto allora propenderei anch'io per l'House of Black più che altro vai vai scusami vai no vai pure scusa il dubbio è capire cosa accadrà dopo cioè cosa ok l'House of Black vince questa faida e poi cosa succede cioè bisogna bisogna vedere il proseguimento della storia dell'House of Black che si è un po' restata oggettivamente negli ultimi tempi allora però a Dark c'è stata tutta la storia del sermone quindi un pochettino stanno riprendendo quell'aspetto tra virgolette un po' esoterico se tanto mi da tanto Pac è rimasto un po' appeso alla famosa storia io vedrò perché tu mi hai dato sai la vista queste cose qua io penso che se perda la Death Triangle finalmente cioè finalmente non lo so è un mio pensiero Pac troverà un po' di spazio o si avvicinerà all'House of Black o in singolo e secondo me torneranno in tag i Lucia Bros Phoenix e Penta vediamo esatto vediamo un pochettino cosa ci regala questo l'idea che mi sono fatta perché Pac c'era ancora quell'abboccamento all'House of Black che era un po' ambiguo quei due poi no uno è bianco uno è nero quindi è possibile anche una lotta tra fratelli questo potrebbe essere tutto però secondo me sarà un po' l'esplosione di qualcosa non credo che vedremo un'esplosione personalmente del Death Triangle però ammetto di non sapere chi chi vincerà questo match ti dovrei dire l'House of Black più che altro però il problema ripeto è cosa accadrà dopo cioè cosa come si cosa accadrà con il classico reset post pay per view tenendo anche conto che però almeno per un mesetto quantomeno il focus delle storyline dell'AiW di gran parte delle storyline dell'AiW sarà finalizzato verso Forbidden Door quindi perché comunque siamo un mese siamo un mese da Forbidden Door quindi e credo che già da mercoledì qualcosina qualcosina di molto interessante potremmo averlo per quanto riguarda per quanto riguarda quello show però ne parleremo poi ovviamente la settimana prossima poi American Top Team contro Sammy Guevara Frank Casera in un match a chi è più insopportabile probabilmente ultimamente sì però posso sempre dire che è sempre meno insopportabile l'American Top Team sono pienamente d'accordo con te pienamente d'accordo con te trovo tra l'altro trovo tra l'altro contrariamente ai miei gusti cestistici comunque molto bella la nuova variante del titolo team è bellissima la cintura è molto bella la cintura sapevo che sarebbe stata con i colori dei Lakers perché comunque perché comunque Storpio Sky è tifosissimo dei Lakers e di Los Angeles quindi sapevo che sarebbe stato quello trovo molto bello il tocco il tocco di mettere sul lato i numeri 8 e 24 che sono i numeri di Kobe Bryant però è veramente bella cioè è il giallo dei Lakers ma è molto più dorato francamente che non che non un giallo giallo Lakers e con il viola magari in teoria può stonare un attimo ma legato il tutto legato alla fin fine mi dà un bel effetto è una bella variante mi piace molto era proprio bella infatti guarda da quando tu mi hai fatto la famosa domanda sulle cinture ci pongo attenzione vedi sei nei miei pensieri quindi ho proprio detto lo devo dire a Eric che è bellissima questa cintura poi a me il viola piace particolarmente quindi sono comunque contenta di vederlo le cinture IW nella maggior parte dei casi sono belle sono molto belle sono molto belle non sono le cinture più belle in assoluto forse nel panorama nel panorama wrestling perché comunque ci sono certe cinture giapponesi che mi piacciono veramente e vale ci sono anche cinture WB che mi piacciono abbastanza non le ultime magari ma diciamo le cinture quelle più storiche della WB erano veramente molto molto belle le ultime le ultime sono abbastanza le ultime sono abbastanza fatte con lo stampino mi piacciono mi piacciono relativamente però vai però quando mi hai fatto notare la cintura del titolo del mondo maschile è bellissima delle IW effettivamente c'è quella piastra è veramente molto bella ma te l'avevo fatto notare quando avevano cambiato mi sembra la cintura femminile o avevano cambiato non meccolo qua la cintura avevano cambiato e ti avevo fatto notare che il disegno il disegno era molto bello e quando che tra l'altro l'hanno cambiata anche da poco mi sembra la è con la revolution con la brit con la brit la revolution avevano cambiato la cintura femminile nell'attuale design del titolo femminile IW comunque no secondo me vince una mercantile team a sto giro perché secondo me perché ce la devono a lunga ancora a lunga è vero che la stipulazione che è stata giunta all'ultimo momento cioè che se se caserian e semi Guevara non vinceranno il match non avranno più tetto per titolo TNT fa pensare a una loro vittoria effettivamente perché di solito è sempre così però effettivamente è anche forse giunto il momento di togliere semi Guevara dal discorso titolo TNT caserian se lo toglie al titolo TNT non è che cambia moltissimo effettivamente semi Guevara se lo toglie al titolo TNT potresti effettivamente cominciare a impostare un discorso diverso con lui magari anche un pochettino elevarlo su nella card nonostante il fatto che comunque l'act suo con la fidanzata sia insopportabile ultimamente e quantomeno dai la possibilità a Scorpio Sky di essere un pochettino più libero e slegarlo diciamo da questa storyline che comunque negli ultimi negli ultimi tempi oggettivamente è diventata abbastanza è diventata molto discutibile vai si si no ma tende a affostare il titolo quindi anche giusto guarda veramente sento un po' di respiro a sto ragazzo cioè fategli fa pure una run normale senza slegarlo da queste robe sono d'accordo sono d'accordo Hardy Boys contro Young Bucks e prima di parlare da cosplay scusa il cosplay degli Hardis torniamo a Rampage un attimo perché l'apparizione dei Bucks conciati conciati stavo morendo questi soppassi con gli Hardis e no ma e non è neanche la cosa più divertente dell'intero segmento perché la cosa più divertente dell'intero segmento è Cutler conciato come Lita che veramente con tanto di con tanto di tanga cioè con tanto di tanga che gli usciva dai pantaloni cioè il tocco di genio di Cutler allora questo è un match intrigante nel senso che è in dubbio come gli Hardis ovviamente siano all'ultimo run praticamente della propria della propria carriera come come Tech Team ed è altrettanto in dubbio che non tanto Jeff ma soprattutto Matt ovviamente abbia ormai i suoi limiti dal punto di vista del lottato sa ancora fare un buonissimo match però chiaro non sono più gli Hardy Boys inizio 2000 e anche 22 anni dopo e di botte ne hanno preso tantissime nella loro carriera quindi questo credo che sia principalmente un buonissimo test per i Bucks nel senso che al di là del discorso del passaggio della torcia diciamo che comunque di fatto è già avvenuto se andiamo a vedere tra i due team che era un po' quello che dicevo i figliozzi e i maestri assolutamente cioè è un buonissimo test per loro perché per i Bucks perché comunque dovranno fare gran parte del lavoro più che altro perché comunque un team dei due impegnati in questo match dal punto di vista atletico non può competere con l'altro con tutto il rispetto per gli Hardis ovviamente però Jeff e Matt contro i Bucks c'è una notevole differenza in questo momento dal punto di vista puramente atletico tra i due quindi credo che sarà un'ottima un'ottima contesa praticamente un ottimo test per gli Unbox per vedere fino a che punto riescono a sollevare secondo me gli Hardis a loro livello mi aspetto un match divertente probabilmente questo match fatto 6, 7, 8 anni fa avrebbe potuto essere molto più uno show stealer di quanto non sarà domani secondo me cioè sarà un buon match ma non mi aspetto cioè non penso che alla fine della serata lo catalogheremo tra i 5, 6 match migliori del pay per view tutto qui vai ma non lo so non lo so quello che ti posso dire è che è vero un po' diciamo è sempre un po' uno showcase di tutte le cose tecniche che sanno fare coi bugs però è anche vero che loro secondo me non avrebbero problemi a jobbare in questo caso no 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 non è un problema di job non è un problema di job non sto dicendo quello non sto dicendo minimamente quello è semplicemente una questione di tipo di tipo tecnico e di tipo fisico più che altro no no ci stavo arrivando no ci stavo arrivando nel senso che secondo me il ragionamento era probabilmente vinceranno gli hardies perché un po' no secondo me secondo me vincono i bugs invece altro che secondo me vincono i bugs secondo me no secondo me vincono gli hardies perché vabbè il primo pay per view con la riunione degli hardie boys secondo me una cosa del genere se partiamo da due partiamo da due premesse diverse secondo me perché tu pensi che sarà una fai da questa secondo me una one and done per fare questo match e vincono i bugs ah vabbè ok no ma potrebbe anche non essere una faida ma nel fatto del sai del dream match faranno vincere gli hardies a mio avviso il mio discorso era i bugs sono molto bravi a mettersi a nonostante facciano i guasconi insopportabili sono molto bravi a mettersi a disposizione degli avversari quando quindi è chiaro che li vedremo dei bugs rallentati ecco questo questo è poco ma sicuro ma non perché sì però non non a livello non più di tanto perché se no non sarebbero infatti dicevo non a livello di Jeff però chiaramente è appunto quello da sostenere 25 minuti di Matt Wrestling da parte di Bucks francamente non credo detto no no perciò dico no perciò dico però è chiaro che devono andare un po' a supporto delle capacità fisiche di Matt più che di Jeff assolutamente esatto il problema credo che sia assolutamente quello per quanto riguarda per quanto riguarda quella contesa che comunque penso che sarà divertente perché comunque molto diciamo che comunque comunque sono specialmente i Bucks sono comunque sono comunque molto esperti nel diciamo nelle scorciatoie per diciamo per sopperire eventuali limiti con diciamo appunto quello dicevo con diciamo robe sceniche mettiamola così sì 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 quello dicevo rimanendo in ottica resting tag abbiamo Jurassic Express Team Teds contro Kifli Ezra Strickland comincio a pensare che possano vincere i titoli Starks e Ops comincio a pensare che possono vincere di loro e non sarei minimamente stupito se questo è il match dove dove Christian diciamo lo butta lo butta in quel posto a Jungle Boy causando la sconfitta del proprio team vai potrebbe essere stavo proprio dicendo potrebbe essere il definitivo match in cui Christian costa la sconfitta ai Express però ai Jurassic Express però io penso che in realtà c'è una buon 30% di possibilità che 33 periodico veramente che possa vincere anche Kate Lee e Swerve perché comunque li stanno abbastanza abbastanza pushando è vero però è anche vero che il match di mercoledì a Dynamite con la vittoria di Strickland in Triple Threat mi sa di contentino nel tipo facciamo vincere Strickland perché poi sappiamo già che comunque non vinceranno il pay per view e quindi lo teniamo su praticamente possibile o anche possibile che ti abbiano dato un assaggino perché adesso non ricordo che aveva schienato però Strickland ha schienato Strickland ha schienato mi sembra Hobbs mi sembra Starks ah Hobbs no Starks no Starks mi sa che hai ragione tu mi sa che ha schienato Starks sì esatto mi sa che ha schienato Starks quindi è come un anticipo no? perché poi alla fine secondo me la contesa si reggerà poi sui due big man cioè sui Lee e Powerhouse Hobbs che comunque potranno fare qualcosa e questi due cioè fondamentalmente era come se avessero settato no? le rivalità due a due cioè Starks Strickland Kate Lee Powerhouse quindi non lo so potrebbe io glielo metto quella percentuale ecco ci siamo dimenticati tra l'altro parlando degli Ardis anche la presenza di Gangrel durante Rampage che è stato portato portato dietro dagli Ardis perché gli Ardis sono stati diciamo il primo non il primo in realtà però hanno fatto parte del nuovo Brood praticamente nel 99 in WWF stavo cercando stavo cercando diciamo altre cose di Dynamite più che altro per no sì di Dynamite più che altro per ripelogare alcuni alcuni segmenti anche della puntata legandomi sempre al pay per view naturalmente no perché non mi ricordo effettivamente chi aveva schierato chi nel match nel triple fret dei singoli praticamente per come anticipazione dei titoli di coppia probabilmente Jungle Boy scusami Stricland su Starks adesso che ci pensi sì Stricland no mi ricordo Starks però potrei sbagliare quindi non stavo andando a memoria andiamo a cercare e poi e poi correggiamo eventualmente la cosa più più avanti tornando a tornando alla card vabbè io penso in un cambio di titolo vediamo cosa succede mi aspetto molto da questo da questo match francamente mi aspetto mi aspetto un match molto divertente e va detto per quanto diciamo le attrattive due delle attrattive principali della divisione tag siano in un altro match cioè appunto gli Hardis i Bats e volendo anche l'Undis Pudi Elite che comunque in questo in questo pay per view è un po' sparsa praticamente in altri in altri match non Bobby Fish però Kyle O'Reilly e Adam Cole sono in altre in altre sedi quantomeno vediamo qualcosa di un pochettino diverso all'interno della divisione della divisione tag e la cosa francamente non riesco a considerarla come negativa anzi tutt'altro io ero andata un po' delusa tu lo sai ero un po' delusa su questo triple threat per le cinture di coppia però effettivamente l'hanno anche costruita abbastanza bene con quella three way dance a Dynamite che ti confermo praticamente Starks away with the Swerve Stomp quindi lo Swerve Stomp su Ricky Starks di Strickland quindi si ha spianato lui e e nulla ero rimasta un po' male per la costruzione devo dire che però alla fine hanno buttato quel semino in più per farcela gustare un attimino vedremo se come ho detto se ci potrebbe essere la possibilità che possano prendere i titoli anche Kit Lee Swerve che non sarebbe male non mi dispiacerebbe affatto anche poi chi mi conosce sa che a me piace Ricky Starks molto è molto simpatico il nostro follettino preferito quindi va bene così va bene andrebbe bene anche così anche perché anche Hobbs si meriterebbe qualcosina ma perché lo chiami Folletto va che non è un nano Ricky Starks no ma per l'agilità perché mi sta simpatico anche perché comunque lui è lui è alto cos'è è alto uno sì è un 83 non è alti sì pensavo fosse un po' più alto è un 83 ma comunque è come punk però in realtà non è che il folletto non intendo piccolo non ho detto nano il folletto è molto agile il folletto però non è alto due metri di base ho capito ma non è nell'ideologia diciamo del folletto il folletto non è mai particolarmente alto però tu lo pensi agile il folletto quello sì quello sì quello sicuramente quello sì poi abbiamo l'anarchine di arena match 5 contro 5 la gerico appreciation appreciation society affronta la blackpool combat il blackpool combat club composto da Brian Anderson e John Moxley e il team composto da Eddie Kingston Santana Ortiz mi ha fatto molto ridere il fatto che si sia andati si sia andati sul cliché di will they coexist che è stato anche giocato molto diciamo nei promo dei due team negli ultimi negli ultimi tempi mi ha fatto morire Gerico al commento ho detto noto che sei riuscito a vivere un altro giorno evidentemente sì come va a finire questo match perché non è così scontato come penso questo match la logica vorrebbe dire vittoria subito nel blackpool combat club però non vorrei che almeno per il momento vadano con la vittoria di Gerico appunto del team di Gerico scusa approfittando appunto diciamo degli screzzi all'interno del blackpool combat club o meglio non tanto del blackpool combat club del quintetto composto dal blackpool combat club Kingston Santana Ortiz e quindi poi si vada verso una faida intermedia tra Santana Ortiz e il blackpool combat club che non mi dispiacerebbe minimamente peraltro va detto e lasciando un pochettino un pochettino in pace diciamo la Gerico presidenza perché già lanciare già lanciare il blackpool combat club per i titoli di coppia forse un attimo presto effettivamente meglio magari più una tappa intermedia prima di arrivare poi per esempio a Ola Auto o qualcosa di simile con i titoli di coppia in palio tanto comunque abbiamo tre mesi per arrivare è possibile però Eric ricordati che ci sono i trios da lanciare e lo so però intanto come si chiama Willer Yuta comunque prima di un paio di settimane comunque non si fa vedere quindi vediamo cioè più che altro la questione dei trios è questa la questione dei trios finché non c'è Keny Omega non la fanno partire e Keny Omega non torna in tempi quindi comunque c'è tempo c'è ancora tanto tempo da quel punto da quel punto di vista e quindi non credo poi magari sbaglio però l'impressione che ha anche dato Tony Khan più volte nelle interviste è quella di ok non vogliamo fare i titoli trios però finché finché non c'è Keny Omega finché non c'è Keny Omega perché comunque la storia è già scritta diciamo da quel punto di vista comunque noi non cominciamo questo tipo di questo tipo di discorso le cinture sono già pronte però non le utilizziamo in storyline non le utilizziamo a livello a livello di show vediamo vediamo che succede mi aspetto un bel match cacciarone proprio come diciamo classico rissone bello bello violento e bello diciamo bello ignorante in questa contesa penso vinca Gerico però c'è il team di Gerico però vediamo cosa io non sono così sicura per un motivo semplice uno perché questo permetterebbe anche un po' di sganciare Eddie da Gerico la vittoria definita nel senso ti ha battuto due volte boh andiamo avanti penso proprio a Eddie in singolo o comunque con Pride and Powerful sì potrebbero nonostante la vittoria potrebbero comunque far esplodere delle tensioni se Kingston se Kingston diciamo perde questa contesa lo puoi benissimo ridanciare momentaneamente anche se non sarebbe una faida vincente per lui se un certo match finisce in un certo modo in questo pay per view quale faida migliore sono d'accordo quale faida migliore per momentanea ovviamente per CM Punk campione del mondo che di nuovo hai richiesto perché tanto voglio dire se la sono cantata ogni giorno continuano ancora ma sono d'accordo e tra l'altro puoi legarla secondo me molto bene con la retro storia che c'è dietro praticamente tutta questa scena di CM Punk che comunque te la stanno raccontando questa storia di Punk che non è quello cioè non è quello che sembra facendo il gaslighting sostanzialmente questo CM Punk che che non è quello che sembra cioè che che sembra che sembra è quello che gli ha anche detto praticamente tra le righe e Man Page se andiamo se andiamo a vedere non proprio tra le righe gliel'ha proprio detto ci arriviamo dopo ci arriviamo dopo però ho letto qualche critica in settimana del tipo è una cosa che è arrivata un po' così dal nulla verissimo no no aspetta aspetta è vero che in questa in questa questo contesto di Page Punk la cosa è arrivata un pochettino dal nulla però attenzione però c'è un motivo cioè comunque perché l'ha buttata così perché non entrano in dettaglio su questa cosa perché non possono entrare in dettaglio perché comunque se ti dicono già se ti fanno già capire che comunque Punk sta girando o comunque che ti fanno già passare subito Punk per quello che non è allora vieni ti togli lo shock del turno perché comunque poi arriverà il turno di Sian Punk è inevitabile credo a questo punto bisogna capire come si arriva a quel ma ne parliamo poi dopo quando arriveremo a parlare del main event abbiamo le due finali dei tornei cominciamo da quella femminile la finale del torneio femminile vede di fronte Britt Baker e Rubisò tra l'altro hai visto che questa te l'avevo già prefigurata questa questo scenario di Britt Baker contro Rubisò in finale ok ok va detto anche va detta anche una cosa per competenza di informazione il pubblico non ha minimamente apprezzato la vittoria di Rubisò sono molto arrabbiata io per questo sono molto arrabbiati per la vittoria di Rubisò contro la Statlander io sono d'accordo devo dire è vero che la Statlander era un rimpiazzo di sostanzialmente di cara uscita però è anche vero che se lo meritava se lo meritava tutto e però c'è pure un altro punto devi far tornare comunque a un livello abbastanza alto Rubisò e questo te l'ho detto già e potevi farlo solo facendo vincere il torneo ok e attenzione però attenzione attenzione però perché adesso la domanda è legittima da fare aspetta finisco finisco ti finisco proprio solo il discorso detto questo io penso che sia è arrivato un po' il momento too much Britt Baker cioè non può essere tutto tutte le tutto la divisione femminile non può passare attraverso Britt Baker cioè basta potevi anche farla perdere una volta non sarebbe successo nulla anzi avresti fatto una bella finale di altro tipo detto questo io credo continuo a dire che vincerà Rubisò ok ti faccio però un'altra domanda a questo punto vai perché a questo punto dopo ieri sera dopo Rampage il dubbio è legittimo e cioè cosa fai cioè vai con Rubisò con il rischio serio di fartela fischiare da 13.000 persone o vai con Britt Baker cioè anche se non ne ha bisogno perché comunque Britt Baker non ne ha bisogno oggettivamente di questa di questa vittoria basta Britt Baker pure la vittoria del titolo cioè del torneo scusa cioè il problema il problema è che adesso purtroppo per loro si sono cacciati in una in un vicolo cieco perché comunque hanno oggettivamente fatto un errore a Rampage di far vincere Rubisò piuttosto che Chris Statlander e questo è un errore è anche vero che puoi comunque uscirne bene per quanto riguarda la Statlander con la Statlander che usa questa cosa come incentivo per andare ancora di più nel lato oscuro e emergere far emergere diciamo questo lato che comunque fino a questo momento oggettivamente non hanno sviluppato moltissimo a livello di storia dall'altro lato però come detto comunque hai fatto un errore perché comunque hai fatto vincere Rubisò e avevi praticamente 4, 5, 6 mila persone che comunque la fischiavano ieri sera a Rampage perché volevano vedere Chris Statlander vincere quindi hai questo rischio in questo momento perché se la cosa continua poi cosa fai cos'è giri il Rubisò e no ma infatti la premessa è che la premessa da fare è che il bracket femminile del torneo è stato buccato pessimamente hanno fatto degli errori su un sacco di un sacco di momenti un altro errore abbastanza grosso secondo me è far vincere Britt Baker invece che Tony Storm per esempio esattamente bravo stavo arrivando proprio a Tony Storm cioè nel senso hai fatto degli errori pazzeschi ti sei infilato in un cul-de-sac perché come al solito vuoi far passare tutto attraverso Britt Baker e questa scelta non ti pagherà perché l'effetto diciamo oppressione della divisione da parte della DMD è dietro l'angolo e secondo me lo stai raggiungendo io non credo non credo che siamo ancora a quel livello credo che sia semplice non credo che la motivazione sia deve tutto deve passare per forza tutto da Britt Baker perché a meno che non abbia in mente qualcosa di particolare per il paper nel senso che deve nel senso che glielo fanno comunque passare a meno che non abbia in mente qualcosa del tipo ok Britt Baker è in finale però accadrà qualcosa cioè nel senso accadrà qualcosa del tipo Jamie Ather che costa il match e fai lo split praticamente e vai con Jamie Ather contro Britt Baker come come faida è vero che la vittoria di Rubis O sarebbe influenzata diciamo da questa da questa da questa situazione però è un modo per uscirne diciamo da questa da questa cosa oppure vediamo perché a meno che non vogliono di nuovo andare con Britt Baker e Tanner Rosa per dare diciamo un'altra vittoria a Tanner Rosa per consolidarla ancora di più non lo farei francamente francamente non farei una cosa una cosa di questo tipo però devo considerarla comunque come possibilità vediamo come se ne esce secondo me non è un match così scontato dopo ieri sera non è un match così scontato perché ripeto la reazione nei confronti di Rubis O quando ha battuto la Statlander è stata molto molto più negativa di quanto pensassi quindi non è stata una bella immagine come al solito qua dobbiamo aprire i discorsoni però il punto è quello che ti dicevo a proposito di Tanner Rosa a proposito della Dib cioè se tu costruisci le cose e poi non le mostri perché la Ruby è persa dopo la sconfitta con la Baker l'abbiamo persa dai radar praticamente è chiaro che poi quando tu push la Statlander perché comunque la stai mostrando pure i promo queste cose il repackage quindi la gente comunque inizia a crearsi un certo tipo di hype se tu tieni una cosa poi la spegni poi la riaccendi e arrivi che poi il problema non è l'antipatia verso Rubis O è che non l'hai vista che non hai partecipato un sviluppo non sto dicendo non sto dicendo che comunque ci sia antipatia nel suo confronto semplicemente è stata messa non so che non ce l'hai con me il discorso è semplicemente Rubis O è stata messa in una situazione dove comunque il pubblico vuole vedere un'altra persona vincere e purtroppo è un danno è un danno perché mi piace tu Crystal Tlander evidentemente non ti so dire una spiegazione precisa non solo nel pubblico te la stavo cercando di dire io perché comunque tu hai fatto partecipare il pubblico a un'evoluzione del personaggio cioè questa che smette di essere l'aliena passa attraverso una sconfitta poi si rialza diventa più oscura più ma guarda io non credo che sia quella perché secondo me la costruzione di Crystal Tlander onestamente non è che sia stata poi così eccezionale francamente perché comunque questa è diventata un emo da un giorno all'altro e non l'hai spiegato praticamente il perché no però spiegami pure no spiegami però pure perché il pubblico è così legato a Crystal Tlander mi piace la Statlander non so darti una spiegazione cioè non non c'è una spiegazione secondo me dal punto di vista del personaggio semplicemente vogliono vedere vincere la Statlander punto cioè non ti so dare una spiegazione pure che se tu pubblici cioè se tu pusci comunque la Statlander perché ultimamente lo stai facendo e non lo fai con Rubi Soko quindi ecco ti ripeto ti ripeto il discorso non crei un babyface altrettanto forte da contrastare a livello di carisma la DMD è chiaro che la Rubi non la vediamo da un sacco allora quelli dicono ma perché hai fatto vincere una che è spuntata ieri ok quello è già quello è già quello è già un discorso che condivido di più francamente però dire hai fatto partecipare il pubblico all'evoluzione della Statlander che di fatto non c'è stata se andiamo a vedere perché comunque cioè c'è stato un cambio di gimmick ma non l'hai spiegato praticamente questo cambio questo cambio di gimmick lei è apparsa è apparsa una volta di giorno dire adesso sono un emo praticamente però non l'hai non l'hai espansa questa cosa alla fine è molto più sensato il discorso ma come Rubi Soko ha fatto i classici due tre mesi lontano lontano dagli show esatto ritorna e mi batte da Statlander così esatto più che altro cioè non è tanto il battere anche da Statlander cioè anche battere da Statlander ovviamente perché comunque voleva vedere vincere lei ma anche il fatto che comunque Rubi Soko sfortunatamente per loro sfortunatamente per l'AW è stata già battuta diverse volte quindi comunque hai già indirettamente lanciato il messaggio che comunque lei in questo momento nei piani alti della compagnia non c'entra ed è quello a cui serviva farla andare a Dark perché comunque a Dark o comunque a Dark Elevation perché comunque le hai dato praticamente una come posso dire le hai le hai dato una riciclata praticamente cioè comunque le hai dato un nuovo inizio però dobbiamo cioè bisogna anche e lì bisogna lavorare sul far conoscere meglio Dark e Dark Elevation negli show televisivi e va detto che è stato comunque facendo un lavoro migliore rispetto al passato da quel punto da quel punto di vista molte persone non lo sapevano di quel che cioè comunque non sanno di questa anche se passano i ticker anche se comunque mostrano le cose importanti di Dark molti non seguono Dark e Dark Elevation e quindi purtroppo hanno visto Rubi Soko che è letteralmente sparita per due o tre mesi o quasi assolutamente che era quello sì esatto quindi ripeto è un match incerto perché dopo ieri sera a sto punto delle domande devi fartele relativamente a come fai finire questo questo match non escludo che possa vincere Britt Baker non ne ha bisogno francamente perché non ne ha bisogno però puoi utilizzare volendo volendo sta cosa per eventualmente girare il Rubi So eventualmente se vuoi se vuoi girare la Hill nel tipo cazzo continuo a perdere in più mi fischiate pure andate a fare in culo io comincio a fare quello che voglio però io non mi preoccuperei più di tanto devi farla seguire no 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 beh dipende però se ci sono già due o tre le serate cominciano eh certo allora devi portare la domanda vediamo poi cosa cosa capita poi abbiamo l'altra finale dei tornei praticamente il torneo maschile con Samoa Joe contro Adam Cole non farei non farei vincere Joe nel senso è già campione ring of honor non credo abbia anche bisogno di vincere il torneo francamente sei l'opposto di me tu sei esatto contrario tu dici che è campione ring of honor quindi ha bisogno di vincere il torneo non sarei per un motivo per un motivo semplice ma che penso che forse l'abbiamo detto non mi ricordo se ha microfoni spenti o accesi però io penso che da questo match cioè da questo torneo è vero che noi non sappiamo esattamente cosa c'è in palio da questo torneo probabilmente solo la gloria è buon però se è un minimo vedo il wrestling da un po' penso che poi da questo torneo comunque ti esce fuori un qualcuno che ha un certo peso cioè nel senso di certo non è il primo e chi meglio di Samoa Joe che di peso diciamo a livello di stazza ne ha parecchio esatto no al di là del po' di shaming picero no io intendevo dire che se da questo match poi dovesse venire fuori un eventuale contender sì ma sai che figata Samoa Joe Punk se succede quello che anche questo va detto anche questo un match che arriva tipo 15 anni dopo quando andava fatto è certo però purtroppo però questo certo tempistiche che non dipendono dalle federazioni assolutamente assolutamente sì è anche vero che se vuoi tenere cioè se Punk vince il titolo e vuoi tenerti Punk ambiguo almeno all'inizio puoi anche andare con Cole Punk come prima fai da Intermedia che Cole poi va a perdere quindi puoi fare entrambe le cose ripeto Joe lo vedo più indirizzato verso altro in questo momento è vero che Jay Little son Jay Dutt e Saddam Singh sono banditi da Border Ring però li vedo più lo vedo più più diciamo indirizzato a quello che non magari ha una title shot per il titolo per il titolo assoluto che poi per carità puoi anche farlo con Punk che viene aiutato gli altri tre involontariamente puoi anche farlo tranquillamente poi in seguito vediamo vediamo come se ne esce il match dovrebbe essere bello perché comunque Joe Cole è un match da cui per esempio Tony Khan si aspetta molto perché comunque è un ha detto che è un suo tipo di rematch quindi comunque ha voluto bucare questo match c'è il torneo per arrivare praticamente a quel match lì e vediamo vediamo cosa vediamo cosa succede vediamo cosa vediamo come se ne esce io penso vinca Adam Cole però puoi anche diciamo puoi anche fare eventualmente una diciamo un'obiezione per una vittoria di Samoa Joe vediamo però io vado con Adam Cole è anche vero che avresti se se Britt Baker e Adam Cole vincono i tornei sono due il vero che puoi raccontare la storia che loro due sono assieme hanno vinto insieme il torneo che comunque puoi utilizzare poi in seguito un po' come Gerico che continua a menarla con le due aver battuto The Rockstone con Steve Austin nella stessa serata che va avanti dal 2001 questa cosa però vediamo vediamo come vediamo come se ne esce da questo da questo torneo da questi tornei io penso che però sai conoscendo un po' minimo l'IW come si muove con i dream match secondo me se sai che bomba se è la prima difesa di Punk è il tramaggio che gli va a battere cassa può essere può essere benissimo puoi fallo benissimo poi allora prima degli ultimi due facciamo Thunder Rosa contro Serena Dib mi spiace ripeto mi spiace per la Dib perché tantissimo ha fatto ha fatto dei buoni dei buoni promo a livello di contenuti però purtroppo non hanno cliccato dal punto di vista diciamo dal punto di vista del diciamo dell'esecuzione secondo me non mi sono piaciuti granché mi è piaciuto già di più il promo di Thunder Rosa di mercoledì mi è già piaciuto più quello di Thunder Rosa della Dib come delivery sicuramente come delivery sicuramente la delivery sì per me non ha aggiunto e non ha levato a questa faida no 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 quello no quello no sono d'accordo con te comunque non è non è che ha reso improvvisamente il match ma sì però delle ultime uscite secondo me a livello complessivo è stata nettamente la più convincente quella che abbiamo visto mercoledì rispetto ai promo di Serena Dib che comunque ripeto sono stati molto buoni molto sentiti dal punto di vista dei contenuti esatto purtroppo la diciamo l'esecuzione materiale del promo non mi ha convinto al 100% anzi mi ha convinto molto meno lo so però io sono anche molto critica con il regno di Thunder Rosa fino adesso per me cioè boh vabbè un match ha fatto un match ha fatto è appunto ha appena vinto il titolo poverina cioè già 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 arriviamo a livello di promo non mi piace non mi sta piacendo per niente vabbè vedrò poi questa te lo dicevo così ne parliamo dopo ne parliamo dopo dopo il match con Serena Dib comunque è un più uno questo cioè comunque Serena Dib penso che perderà e Thunder Rosa conserverà il titolo però secondo me non perderà non perderà male perché io ho l'impressione che non la vogliano far finire qui può essere può essere può essere però se se Thunder Rosa la batte nettamente poi comunque devi trovare anche un motivo per proseguirla perciò secondo me non sarà proprio nettissima la vittoria vediamo vediamo un po' che succede e poi gli ultimi due match della carta che sono credo i due più importanti MJF contro Wardlow per diciamo per la libertà di Wardlow è vero che volendo c'è diciamo la via d'uscita del contratto Ring of Honor però a sto punto questo match deve essere questo match deve essere un'esecuzione punto cioè deve essere Wardlow che veramente giustizia MJF esattamente e non mi aspetto neanche un match particolarmente lungo dal punto di vista della diciamo della durata cioè Wardlow ha promesso il record mondiale di di Powerbomb su MJF vedremo se sarà così mi aspetto che vinca perché comunque è anche il momento diciamo di Wardlow che finalmente si vendica su MJF dopo tutto questo tempo sono d'accordo con te sono d'accordo con te ma teniamo sempre un po' nella possibilità tutti i magheggi di MJF che raramente perde quando deve dimostrare qualcosa di dritto o di rovescio quindi dipende quanto ancora vuoi spremere questa faida no puoi ancora andare avanti attenzione Wardlow che batte MJF poi comunque puoi utilizzarlo per dopo quando magari MJF riuscirà finalmente a ottenere un terroirno importante gli metti poi sulla strada uno di quelli che l'ha battuto tra cui per esempio Wardlow dipende dipende cosa mi mente dipende cosa mi mente con lui dipende cosa mi mente con Wardlow quello lo scopriremo solamente dopo il pay per view però per quanto riguarda Double or Nothing questo match secondo me a sto punto deve essere un'esecuzione cioè comunque Wardlow deve mazzulare praticamente abbastanza nettamente MJF anche perché secondo me viene giù l'arena abbiamo visto che ormai Wardlow è dannatamente over col pubblico quindi è giusto anche sfruttarlo e poi il main event M&M Sampage contro CM Punk per il titolo del mondo di AEW io onestamente non so onestamente non saprei veramente a chi dare la vittoria è 50-50 sto match secondo me è tranquillamente è tranquillamente il match più incerto della storia dell'AW per quanto riguarda i match c'era il Winter is Coming tra Moxley e Omega con la microfonata no quello non era minimamente incerto sapevo che Omega avrebbe vinto il titolo no io no io per niente per niente no diciamo diciamo che questo è sicuramente più incerto che hanno fatto cioè comunque c'è questo qua perché perché hai cioè ripeto hai elementi per diamo il titolo a Punk perché comunque è anche forse la cosa più logica dal punto di vista degli affari perché comunque CM Punk con tutto rispetto per Page è un nome più grosso ed è comunque la tua star della compagnia in questo momento dall'altro lato però hai anche hai anche Page che può tenere la cintura ancora un po' non in modo eccessivo però magari ancora un mesetto giù di lì perché poi magari vuoi fare la storia di CM Punk che diventa Hill che vince il titolo e diventa e diventa Hill o meglio e ottiene il rematch e per diventare campione una seconda volta diventa Hill e diventa praticamente cioè fa il turn e praticamente si rivela rivela al mondo quello che M&Page e Dickinson avevano già detto e hai già praticamente volendo Kingston mettergli contro hai M&Page per un eventuale poi il rematch cioè comunque hai già hai già comunque un po' di storie un po' di storie pronte dovessi dire guarda lanciando la monetina forse forse andrei con il piano che ho appena detto cioè Page che batte panca magari per il rotto della cuffia però poi perde il rematch però poi va a perdere il rematch magari a luglio o giù di lì e poi da lì comincia a costruire le robe per all out che poi la paper field di settembre che tra l'altro le ultime notizie pare che alla fine faranno anche quello a Chicago quindi avremmo in caso di Tony CM Punk una situazione molto strana perché lui sarebbe l'eroe di casa ma sarebbe un po' come un po' come Jane F. Long Island praticamente esatto vai vuoi la mia vuoi la mia velocissima vai allora Punk non fa mai niente per caso la maglietta che aveva su ha tantissimi significati secondo me non ne ha neanche uno però vabbè fai semplicemente una maglietta una maglietta fatta lì per mettere non conosci ho letto diciamo il paragone che hanno fatto su Reddit mi sembra un po' tirato per i capelli francamente capisco che che molte cose nei dubbi non sono fatte per caso onestamente mi convince poco però magari avete ragione voi attenzione magari avete ragione personalmente mi convince poco non ho letto niente su Reddit devo dire sono io che ho fatto le mie valutazioni però molto stringente io credo che finalmente il faccia a faccia ha rivelato una cosa che prima o poi questa maschera deve cadere questa maschera da gaslighter quello si che ha di fatto Hangman gliel'ha letteralmente detto in faccia io proteggerò l'AW da te perché tu sei il campione davanti ai riflettori ma il vero campione ti ricordi ha un po' ripreso la cosa del cowboy shit cioè il campione vero è quello il silenzio di quando si spegne la telecamera quindi è quello del dietro le quinte del backstage che era un po' anche quello gli ha detto Kingston a Punk il promo quando gli ha detto tu sei uno che spacca sei uno che mandi in tribunale i tuoi amici fondamentalmente cioè è quello che poi è Punk come storia ma anche attingendo diciamo la sua vicenda biografica quindi di sicuro da questo match Punk esce con la maschera che cadrà in qualche modo potrei seguirti sul discorso di Hangman che tiene ma non per i motivi che hai detto non perché trovi poco corretta la tua interpretazione assolutamente perché nella mia idea questo match c'è fatto tutto per puntellare definitivamente Hangman cioè se perde perderà dopo aver sconfitto esattamente tutti cioè lui ha detto esattamente nel faccio a faccio gli ha detto io potevo uscire fare il campione in realtà uno gli manca da battere ancora Page chi intendi MJF ah MJF ok sì ma potrebbe infatti potrebbe anche essere che lui perde il titolo con MJF quindi si va con Punk MJF però secondo me battere allora adesso Punk non ha bisogno del titolo nemmeno per girare il non gliene può fregare cioè secondo me non è quello l'interesse l'interesse secondo me dell'AW adesso è definire lo scontro tra Punk egoista diciamo tra virgolette quindi l'AW che corre il rischio di essere Punk centrica perché l'AW la fa spesso questa cosa della compagnia contro e il campione che invece dice io difenderò l'AW da te e quindi facendogli battere Punk tu puntelli definitivamente Langman che quindi può droppare il titolo in pace con se stesso venendo anche diciamo facendo seguito e fede a tutta la sua storia secondo me quindi vincerà Hangman vediamo vediamo un po' cosa vediamo un po' cosa succede di certo è un match molto incerto è un match molto incerto molto bello ci abbiamo tanta e potenzialmente anche 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 molto divertente dal punto di vista dell'ottato perlomeno della storia perlomeno della storia di sicuro quelli su questo ring tra tutte e due racconteranno una grande storia perché lo sa fare anche Hangman è vero che adesso lotta con Punk ma io non sottovaluterei mai Hangman perché ovviamente è un grande performer assolutamente beh lo sta comunque dimostrando dal punto di vista dei match assolutamente assolutamente sapete come l'ha persa sul regno titolato di Page credo che molte delle critiche di Sui Conforti siano assolutamente esagerate ma a prescindere dall'opinione sul booking e sull'esposizione di Page è assolutamente in dubbio come comunque abbia fatto dei match della Madonna durante il suo regno titolato quindi dal punto di vista dal punto di vista puramente tecnico dal punto di vista del puro lottato alla fine è assolutamente in dubbio che comunque i miglioramenti da quando ha debuttato il Ring of Honor in New Japan siano assolutamente esponenziali per quanto riguarda per quanto riguarda Hangman ripeto è una card è una card molto ampia forse fin troppo dal punto di vista dei match perché abbiamo alla fine ripetiamo 13 match contando 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 anche il kick off il buy-in sì scusami il kick off è quello che fa la WB alla fine quella lo chiama buy-in è la stessa cosa ma lo chiamano buy-in comunque vediamo vediamo che succederà nella notte tra lunedì e martedì ricordiamo gli appuntamenti per seguire per seguire l'evento perché ci sono due modi per vedere legalmente in Italia il pay-per-view in diretta nella notte tra domenica e lunedì a lunedì l'appuntamento con l'appuntamento con il buy-in a luna e live su Sky Sport Arena eccolo qua dal luna di notte con il commento anche in lingua italiana esatto a cura di Salvatore Salvatore credo che arrivi per il pay-per-view sai per il pay-per-view quindi sarà Moreno e Moreno e Mariani commentano il buy-in adesso vado a vedere non si bevo scusa vero che è una giornata lunghissima domani perché c'è perché c'è di tutto praticamente dal punto di vista degli sport degli sport motoristici però sì non segni effettivamente non segni effettivamente i telecronisti per quanto riguarda il pay-per-view su Sky sicuramente il buy-in è commentato da Mariani e da Moreno Molla Rampage lo commenta Salvatore quindi penso che il pay-per-view alla fine lo facciano in tre o al massimo al massimo Moreno Molla e Salvatore però non c'è non vi so dire l'ufficialità perché non è segnato purtroppo in RPG su Sky comunque dal luna di notte il buy-in in diretta su Sky Sport Arena con anche il match tra Uke Danhausen contro Tony Nese e Smart Mark Sterling e poi dalle due in pay-per-view canale 256 chiedo scusa di Sky al costo di 9,90 euro il pay-per-view codice 848484 se volete ordinarlo anche via sms in diretta in altra definizione dalle due del mattino fino praticamente alla conclusione dell'evento e poi repliche dal lunedì alle 10 alle 15 e alle 20 il fatto che si siano portati avanti con 5 ore di spazio mi sa che vuol dire che questo pay-per-view può anche passare le 4 ore francamente magari non di molto però può passare anche le 4 ore quindi prendete le ferie per lunedì mattina alle 10 alle 15 alle 20 le repliche lunedì martedì e mercoledì no anche giovedì lunedì e martedì mercoledì e giovedì le repliche praticamente di Double or Nothing su Sky che poi comunque è disponibile con l'evento che può essere anche disponibile on demand se però non avete Sky non avete quindi l'abbonamento satellitare o via cavo per seguire il pay-per-view potete comunque ordinare il pay-per-view su fight.tv non c'è il commento in lingua italiana ma c'è il commento in inglese in tedesco in francese e in spagnolo l'unica cosa è che lì il pay-per-view costa 19,99$ quindi costa di più ovviamente rispetto alla messa in onda su Sky però potete vederlo legalmente tranquillamente anche nel nostro paese anche lì nella notte tra l'unica lunedì alle 2 il pay-in invece è gratuito il pay-in è comunque anche disponibile su YouTube oltre che ovviamente su fight.tv e poi al termine dell'evento l'evento sarà disponibile on demand anche sulla piattaforma di fight.tv dove peraltro è già disponibile anche enormemente disponibile la visione di tutti gli altri show della EIW con Dynamite Rampage in diretta e poi Dark e Dark Elevation il martedì e il lunedì rispettivamente mentre per quanto riguarda le messe in onda di Sky per quanto riguarda gli show televisivi della EIW l'appuntamento per quanto riguarda Rampage è a mezzanotte di domenica eccezionalmente per mantenere la cronologia in vista del pay-per-view quindi a mezzanotte 10 per essere precisi Rampage su Sky Sport Arena poco prima dell'inizio del buy-in e poi nella serata di venerdì l'appuntamento alle 23 con EIW Dynamite mentre invece normalmente mi senti mi senti adesso si ok dicevo che Dynamite normalmente va in onda il venerdì sera alle 23 su Sky Sport su Sky Sport Arena su Sky mentre invece Rampage che prima di Double or Nothing viene mandato eccezionalmente la domenica sera a mezzanotte normalmente nel lunedì intorno alle 20 sempre su Sky Sport Arena o Sky Protection dipende dal canale comunque ripetiamo che se non avete Sky potete comunque vedere tutti gli show e i pay-per-view dell'AW con Fight e l'abbonamento dell'AW Plus pay-per-view però sono a parte al costo 19 dollari e 99 vuoi ricordare anche intanto i tuoi appuntamenti per quanto riguarda ricordiamo tutto ricordiamo tutto allora noi adesso corriamo a registrare i pronostici quindi se volete tutti i pronostici match per match lunghissimi di AW Italia al canale YouTube poi ricorda che noi invece facciamo una cosa molto molto carina che è assolutamente l'aftermat di Double or Nothing quindi noi facciamo la botta calda insieme per la prima volta in realtà più che la botta calda la botta fredda perché sarà lunedì sera lunedì sera sì sì dobbiamo smaltire dobbiamo smaltire e dormire dobbiamo smaltire e dormire saremo in tre saremo io te e Mattia giusto Mattia di Aidab Italia per essere precisi per commentare il pay-per-view chiedo se Gianluca è disponibile lunedì sera per un'insa di questo pay-per-view vediamo questo crossover praticamente tra Resti Caffè e Aidab Italia che andrà in onda in diretta lunedì sera alle 21.30 su Twitch canale punto di cento e in contemporanea audio su YouTube e poi ovviamente on demand su entrambe le piattaforme sia su Aidab Italia che su Twitch guardate che bel menu che vi abbiamo preparato sì ho detto Twitch in realtà ricordami come si chiama Anchor la piattaforma sì sì Anchor che è la piattaforma la piattaforma podcast gratuita di Spotify ricordiamo noi ci sentiamo invece con per i nostri abbonati Patreon e YouTube l'appuntamento è lunedì mattina se non subito dopo pay-per-view comunque entro il pomeriggio con a botta caldo dove ci sarò io a fare un breve recap del pay-per-view di mezz'oretta 45 minuti come primo commento a caldo dopo l'evento e poi come detto lunedì sera appuntamento con Marese Cafe by Night speciale e i Double Ornaffing dalle 21.30 su Twitch e su YouTube e poi settimana prossima appuntamento come sempre con i nostri classici appuntamenti io ringrazio Matti Di Noa che ci ha fatto compagnia in precedenza per le parti precedenti del podcast ringrazio Alessia Di Donato di D'Abitaglia che mi ha fatto compagnia per la parte dedicata a Double Ornaffing grazie Alessia ciao un bacio ci vediamo lunedì ci sentiamo lunedì esattamente grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento Marese Cafe torna il prossimo weekend per essere precisi nella notte tra venerdì e sabato perché perché c'è il weekend WB con NXT in your house tra sabato e domenica e poi l'appuntamento con Elina Stel quindi anticipiamo ulteriormente di 24 ore praticamente la nostra messa online andremo online tra venerdì e sabato perché così almeno facciamo la preview dei due primi live event WB del prossimo weekend grazie per averci ascoltato rimanete al sicuro alla prossima ciao a tutti